Sto video Visto che c'è solamente l'audio e qui ci sono solamente sti due furri Mi allargo un pochino, insomma sono più bella io da vedere Che cosa è stato? Che cosa? Cosa? Che sta facendo? Che è successo? Ah no aspetta che sono andato per sbaglio su Eh cazzo sono andato Porco diaz Ah ecco mi era sparito tutto Bravo lumi sinumbra Lo stress fa venire i capelli bianchi E' proprio quello infatti Ciao Simone D'Alessandro benvenuto Benvenuto anche al crovo, benvenuto nel clan Ok dai allora Ora smetto un attimino di leggere i commenti Perché comunque Ci sentiamo il video Ditemi se lo sentite bene E partiamo Chi è? Grazie mille Gnappo Zero E Savasansdir Benvenuti E grazie per il follow Io manco lo so se si sentirà alla fine tutto questo Non metto il video perché non vorrei che Conoscendo il personaggio poi mi mandi un copy strike Cioè mai mandato uno strike in vita mia Assolutamente Quindi poi Conoscendo il personaggio cosa? Quindi cioè lui vuol dire che mi conosceva da prima Fatto tanto l'ognorre che non so nessuno Che nessuno mi conosce Che ho due iscritti E già dice conoscendo il personaggio Comunque io non ho mai mandato nessuno strike Mentre oggi stranamente così Casualmente Sicuramente sarà un caso Lo dico proprio convinto Mi è arrivato una segnalazione da youtube Che qualcuno Mi ha segnalato il Uscite manga marzo 2020 Mi è stato segnalato Come ho fatto vedere ai miei follower Sul gruppo di telegram E anche a quelli di Volpescu Se non ricordo male Quindi Casualmente Però sicuramente è stato un caso Grazie mille a Mafex02 Per il follow E grazie mille Grazie mille davvero A Mad Hannibal TL3 Che già con il nome Hannibal Mi piace Grazie mille per il Sub Per il Sub Grazie mille per il Sub Con Prime Grazie Grazie mille E Praticamente Adesso Il nostro Michelone Mari Ti manderà il link Per entrare nel nostro gruppo Telegram Grazie mille anche a Mad Phoenix Youtube Andiamo avanti Uno strike per il copyright Perché non sapesse che cos'è E mi chiude giù il video In modo che non si possa sapere la verità La verità La verità La verità Come forse alcuni di voi sapranno C'è un tizio che ha fatto un video Si chiama Kirio Che ha fatto un video contro di me Sono offesissimo Mi ha chiamato tizio Sono offesissimo Grazie mille a Super Duper Mega Minestrina E a CodeNod Benvenuti E grazie per il follow Ricordo che Tutti quelli che non vogliono Vedere pubblicità Ed entrare nel nostro gruppo Telegram Possono fare il sub Grazie Intanto a tutti quelli Che sono subbati Già Che sono tantissimi Grazie mille siete stupendi E vi scoperei tutti In cui praticamente Mi accusa di tutta una serie di cose Ah aspetta aspetta Perché Il titolo del video mi piace Diritto di parola E risposta Al circo orvegliano 1984 Questo è bello davvero Cioè ragazzi Tra l'altro 1984 Uno dei miei libri preferiti Cioè Bello 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 Questo mi è piaciuto Bravo Morte Bianca Bravo Bravo Cose Io sono qui a doverlo sentire Grazie mille Robby Fish Ragazzi avevo già detto Che non volevo più fare Video risposta Sto sbagliando Lo so Ora me lo direte nei commenti I Patreon mi faranno Una testa tanta Giustamente Dicendomi che non devo Dare attenzione A questo genere di Cerchiamo un termine Dai ma offendimi pure Ma io non me la prendo Ma figurati Cioè Va bene che io Non ti ho offeso In nessun modo Ma mi puoi offendere Ma tranquillo Siamo tra adulti forse Pulito Provocazioni Ok E che bisogna imparare Ad andare oltre A passare oltre Me l'avete detto tantissime volte Il problema qual è? Il problema è che Di fronte a tale Sfrontatezza E di fronte a tale falsità Sono stato sfrontato Perché ho osato Ho osato sfidare Il re del sud Non si può rimanere in silenzio Soprattutto considerando Che io sono la vittima E di fronte al fatto Oh piccino È la vittima Che questa persona Può anche traviare Soprattutto un pubblico Molto giovane Anche di Ma sai è lui Che c'è il pubblico Di bambini Che vengono a offendere Iscritti ma non solo È anche una responsabilità mia Cercare di fare chiarezza Ma poi scusa Morte bianca Ma che responsabilità Ho io Se sono un canale Piccolo di merda Che ha due iscritti Scusa Ti contraddici Dunque Facciamo un attimo Di chiarimento Sulla storia E poi analizzeremo Il video Spezzone per spezzone E vedremo se Si regge in piedi qualcosa Spoiler Non si regge in piedi Assolutamente nulla Giaggio 2 La vendetta Praticamente Ma No Povero Giaggio Perché deve continuare A offendere Anche Giaggio Che non c'entra nulla In questa storia Quando mai In pratica Quello che è successo È che io ho fatto Di recente Come sapete Il video Top Shonen E questa cosa Veramente mi fa incazzare Cioè questo fatto che Già nei commenti Di quel video C'era gente Che mi prendeva Per il culo Dicendo Adesso ti farà Il video risposta Eccetera eccetera Se non rispondi Sei un codardo Se rispondi Sei un presuntoso Non devi Fai il cazzo Che ti pare No Non è più semplice Devi fare niente Devi rimanere lì A subire Come fai sbagli Giusto Non esiste modo giusto Di fare Ah no Un modo giusto C'è E arrendersi E dire No ha ragione lui Ha vinto lui Vabbè Io invece no Io non mi piego Questo genere di Tattiche Dicevo Ho fatto un video Che si chiama Top Shonen È riro Ora chiaramente Non facciamo reaction Ad altri video Credo Stasera Che dura un'ora Questo Quindi Non penso proprio Ci sarà altro Tempo Però Prossima live Hai un video riscattato In cui ho elencato I miei anime E manga Preferiti E E Quello che è successo È che questa Top Shonen Ha avuto un discreto successo Devo dire Ha fatto diverse views Ha ricevuto Diversi commenti E Devo dire che è stato un bel video Sono molto successo Ditemi se si sente bene E E Quello che è successo È che questo Kiryu In reazione a questa Top Shonen E anche al fatto di essere stato bannato Ha fatto un video In cui Mi ha insultato Mi insulta nel titolo Mi insulta Di fatto nella descrizione Mi insulta nel video Mi insulta In varie forme Nei commenti E Benvenuto Sesterzio Allora Allora Aspetta Aspetta Che qui Un attimo la cosa Cerchiamo di prenderla Punto per punto Ovviamente Allora Lui dice che lo offendo Nel titolo No Perché il titolo È Morte bianca È un clown Punto interrogativo Quindi è una domanda Non è un insulto Poi dice che lo Insulto in descrizione Allora Vediamo la descrizione Che dice La morte bianca Della discussione Dato che il signor Morte bianca Cancella i commenti Sul suo canale Mi trovo costretto A fare questo video Per controbattere Alle sue parole Trovate delle offese Trovate delle offese A parte il fatto Che è clown Mi sembra Questo grandissimo insulto Perché Me l'hanno detto Migliardi di volte A me E non me la sono mai presa Ma C'è un punto di domanda Quindi non è un'offesa Ci sono offese Nella descrizione Non mi sembra Il mio video Lo avete visto Offese Non ce ne sono Quindi Prima cosa Smontata totalmente Non ci sono offese Andiamo avanti Ferma Che io Cancello I commenti Di quelli Che non la pensano Come me Allora Questa frase Possiamo già iniziare subito È empiricamente falsa Ma Non dico Non dovete credere a me Vi basta semplicemente Aprire Non so Quel video Ma qualsiasi video In realtà E scorrere Scorrete giù 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 E troverete Tutti i video Di Critica Di contrapposizione Di opposizione Che volete Ne troverete a centinaia A migliaia Migliaia no Chiaramente I video più controversi Hanno Più Comenti controversi Mentre i video più Tranquilli Piacevoli Hanno meno commenti Controversi Ma Non è affatto vero Che io cancello I commenti critici Questa è la prima Menzogna Che si può smentire tranquilla Non è vero Che cancella I commenti critici Ovviamente non è vero Come tutti sapete Visto che Mi avete mandato Decine di prove Ovviamente Io In questa live Vi farò vedere Anche gli screen Dei commenti Che ha cancellato A me Senza nessunissima Offesa Ma ve li faccio vedere Dopo perché Ci arriviamo Quando lui ne parlerà Dato che il signor Mortebianca Cancella i commenti Su il suo canale Questa è una falsità E chiaramente è una falsità Io non cancello I commenti Di chi La pensa Come Di chi non la pensa Come me Ma non solo Non è soltanto La prima menzogna Ma è anche una cosa Che ho sempre detto È inutile Io ho sempre spiegato Che cancellare Naturalmente le menzogne Sono sue Una menzogna Dieta l'altra Commenti di chi non la pensa Come te è completamente inutile Perché la gente Allora perché lo fai La gente Può comunque vedere Se il tuo video È piaciuto o non è piaciuto Guardando i likes E i dislikes Ma cosa c'entra Che i like E i dislike Il like Lo mette Una persona Ogni mille Statisticamente Statisticamente Il like Viene lasciato O il dislike Da una persona Ogni mille Che io non ho mai nascosto Esattamente come i commenti E voi potete Tranquillamente Guardare Cioè io mi chiedo Quale sarebbe il senso Di cancellare i commenti Che non piacciono Eh lo so Dicelo te Cioè se uno ha detto Delle cazzate Le cazzate restano in quel video Tutte le vedono E tutte possono farse l'idea Ok mi iscrivo Mi disiscrivo Ok quindi È una stronzata Come ragionamento E allora Il ragionamento quale può essere Eh lui cancella i commenti Così può sembrare Che il suo video sia tanto amato Che abbia un grande successo Ma è una stronzata Perché basta guardare i dislikes Perché chiunque Fa un commento negativo Presumibilmente Che cazzata Che cazzata Sta dicendo Cioè Prima cosa Non tutta la gente Ma una minimissima parte Lascia un commento O un dislike O un like E questo lo sa Chiunque Abbia mai visto Un video su youtube Tanto che ad esempio Se si guardano dalla play Non si possono lasciare O comunque È difficilissimo Quindi Cazzate totali Anzi Sono molti di più quelli Che mettono dislikes Che non quelli Che si spingono Grazie mille E voi potete vedere Che i miei video Hanno sempre un razio Likes e dislikes Altissimo Mai nascosta questa cosa A differenza del suo video E di tanti altri suoi video Che invece hanno Dei dislike numerosissimi Ok Chiaramente Di nuovo I video più controversi Hanno un po' più di dislike Ma Non avrebbe alcun senso Cercare di cancellare i commenti Cosa che non faccio Lo fai Certo Abbiamo le prove Che dopo vedremo I commenti che cancello Sono commenti Che reputo tossici E che vanno a violare Tutta una serie di norme Secondo me che sono Sacrosante Le norme contro Ah adesso Dopo vedremo se il mio commento Poteva violare queste norme Lo spam E se fosse tossico Lo spam Le norme contro l'insulto La calunnia Il mettere in bocca parole Che non hai detto E cose così Ora Quindi Abbiamo smentito la prima affermazione Cioè che io No Cancellerei I commenti Che non la pensano come È empiricamente falso Potete andare a vedere Ma addirittura Ieri stesso Sia in live Sia poi nell'ama Che ho fatto Nella community Anche per testare Un pochino il terreno Io ho detto molte volte Io penso questo Questo e quest'altro E mi è arrivata gente Che diceva Non sono d'accordo E abbiamo mutato a parlare Secondo Kirio Avrei dovuto bannarli tutti quanti Cosa che non faccio Cazzata È una minchiata È un ragionamento Che non si regge in piedi È una stronzata Lo diciamo subito Proseguendo Perché io l'avevo fatta Notare questa cosa Avevo detto Kirio veramente Tu Molte persone nei tuoi commenti Addirittura sotto Quel video stesso C'è gente che se ne lamenta E lui mi ha E quindi vuol dire Che gente che se ne lamenta Equivale al fatto Che li abbia bannati davvero A parte questo Scusami morte bianca Se sotto al mio video C'è gente che si lamenta Di essere stata bannata Come fa A commentare Il mio video Mi sembra difficile Da capire Ha detto Ah portami delle prove Documentate Di queste persone Che sono state bannate E gli ho detto Zio ma veramente Tu non hai portato Nessuna prova bannata Di gente Che è stata bannata In maniera ingiusta A parte te E io infatti Comunque non ho detto Non ho mai usato La parola bannato Per quanto riguarda me Ma ho solamente detto Che ha cancellato I commenti Cosa che vedremo Lui ha detto poi Che ero stato bannato Io non ho neanche controllato Perché Non mi interessa neanche Di scrivere altri commenti Sul suo canale Benvenuto Basdino E Mario Luggero 1927 Benvenuti Grazie per il follow Cioè lui mi ha detto Ah un sacco di gente È stata bannata da te Perché guarda Questi commenti Lo dicono tutti Nessuno di loro Ha portato prove documentate Ti stai fidando Sulla base No sul ban no Molti mi hanno Mandato gli screen Dei commenti cancellati E io mi fido Perché non dovrei fidarmi Non ho mica detto Che è la verità assoluta Sto dicendo Che io mi fido di loro Per quanto riguarda I miei Sono sicuro al 100% Perché sono stati cancellati E ci sono le prove Che tra poco vedremo Il sentito dire E questa è una cosa Che non puoi fare Ora lui magari dopo Farà un video sequel In cui porterà 10.000 screenshot Più o meno Photoshopati Da altri Ah qui sul Photoshopati da altri Puoi venire Caro Mortebianca Con un perito tecnico Se vuoi A casa mia Mi contatti Mi telefoni Come vuoi Puoi venire a casa mia Con un perito tecnico E analizzare Il mio portatile E vedere Se gli screenshot Che faccio vedere dopo Sono contraffatti Photoshopati O quello che ti pare Ti ripeto Puoi venire qui da me Sei ufficialmente invitato Con un perito tecnico Eccetera Ma lui intanto L'accusa l'ha fatta Senza alcuna evidenza Si è fidato di commenti Assolutamente non verificati E questo è sbagliato E' il secondo errore Che lui fa Che tra l'altro L'ho visto in molti Di quei commentatori Gente che mi ha accusato Di cose Indicibili Gente che mi ha accusato Di voler essere il re Del sud Cioè di voler essere un monaco Chissà come mai Accusano tutti lui Tutti con lui Ce l'hanno Poverino Però lui non ha fatto nulla Strano Gente che mi ha accusato Di aver detto cose Che non ho mai detto Nella vita Gente che mi ha fatto minacce Insulti di vario genere Questi sarebbero il genere Di commenti che Chi lo prende come fonti Sotto al mio video Nessuno lo ha minacciato Questo è poco ma sicuro Grazie mille per il follow A Mugin Crow E Baflin Vasdino L'avevo già detto Forse Michelone Mari Grazie Michele Che ha regalato Un abbonamento A Volpescu Grazie Grazie Michele Mari E grazie mille Volpescu Per tutto Insomma Per la reaction Ai video E tutto il resto Ti aspettiamo Abbraccio aperte Bel ragazzone Nel nostro gruppo Telegram Quindi Michele Mandagli pure Il link Al nostro Volpescu Grazie mille Signore uscita Per il Beats Grazie mille E benvenuto A F Benvenuto Grazie per il follow Ah si Come dice Tra l'altro Where you boy In chat Anche Mortebianca Si è affidato A quelli che gli dicevano Di essere stati bannati Da me Senza nessuna prova Quindi Si sta contraddicendo Su ogni cosa Ficate Ok Quindi Kirio mente due volte Mente dicendo che io Cancello i commenti Di quelli che non la pensano Come me Empiricamente falso Empiricamente falso E mente dicendo Che ci sono delle basi Per dirlo Quando invece Non ha queste basi E anzi Io ho molte più basi Per affermare il contrario Di lui Io ho le basi Sicuramente sul Sul mio commento cancellato Lui che basi ha Scusa Cioè che lui Cancella delle persone Che fanno commenti scomodi E che basi hai? E ci sono arrivati Diverse testimonianze Di ciò Ah le testimonianze Per lui Sono delle basi A parte Fammi vedere Queste testimonianze Fammi vedere I commenti Fammi vedere I screen E poi giudichiamo Io ho sempre detto Di non bannare Gente che non offende E che non fa Cose del genere Se ho bannato Gente che offendeva Ci sta Cancello le bande Quindi Kirio In realtà Non ha alcuna base Per affermare questo Se non il suo ban Cioè lui dice Io sono stato bannato In giustizia Non l'ho mai detto Comunque Di essere stato bannato Ho detto che mi hai Cancellato dei commenti Perché insisti E travisi le parole E dice queste menzogne Giustamente Cioè secondo lui Lui pensa Ed è stato bannato In giustamente Ora vediamo Lui pensa Ed è stato bannato In giustamente Ergo Ergo Tutti quanti Quelli che Ergo io sono uno Che banna ingiustamente E che tutti quanti Vengono bannati ingiustamente Questa è una Generalizzazione No questa generalizzazione Viene dal fatto Che mi hanno detto A 3.000 E ne generalizza 150.000 utenti È una grande presunzione È una grande realizzazione E logicamente Non regge Quindi Abbiamo Ah no Poi ha risposto anche Al post di Anime Click Ho smentito Tre menzogne Dette da Kirio Ma lui stesso Comunque si difende Non ne ha smentita Neanche una Andiamo avanti Dicendo Che io Avrei violato L'ho bannato In giustamente E che io Avrei violato In questo modo La sua libertà D'espressione Ma quando mai L'ho detto io Cioè Ora Io spero Che mi trovi Il punto esatto Quando io Ho detto Che lui Ha violato La mia libertà D'espressione Lo voglio Proprio vedere Cioè Voglio vedere Quel momento lì Grazie mille Marco Cavalera E Alessandro Betti Per il follo Lo voglio vedere Lo voglio proprio vedere Allora Analizziamo Questa cosa Dopiamente Cioè La libertà D'espressione È il banni In giusto Vediamo La libertà D'espressione È una stronzata Portarla in barlo Come concetto Perché io Non ho affatto Limitato Ma io non l'ho mai detto Ce lo possiamo saltare Questo pezzo Perché io non ho mai detto Che mi ha limitato Limitato la libertà D'espressione Se lui si riferisce Al disclaimer Che ho messo io Alla fine del mio video Sulla libertà D'espressione E il diritto Di critica Io mi riferivo Al mio video Nel senso che Il mio video Si avvaleva Della libertà D'espressione E del diritto Di critica Non c'era scritta Nessuna parte Che era riferita a lui E al fatto che Avesse cancellato I commenti La sua libertà D'espressione Ballandolo Tenendo presente Che chi fa Commenti tossici Le personalità Tossiche eccetera Io sono liberissimo Di bannarle Ed anzi Ma sei liberissimo Di bannare chiunque Anche chi fa Dei commenti Tranquillissimi A me non me ne frega Un cazzo Di quello che fai Sul tuo canale Nonostante I miei commenti Non fossero tossici Né Contenessero Delle offese E dopo lo vediamo Solo in questo modo Che posso garantire La vera libertà D'espressione Spiegheremo meglio Questo concetto Io non ho limitato La sua libertà d'espressione Perché lui è stato liberissimo Come poi ha fatto Di fare un video contro di me Pieno di falsità Infatti non l'ho mai detto E di insultarmi In quel video Il mio video non contiene Una sola falsità E non ti ho insultato mai Mi ha dato del clown Mi ha insultato in modo Non è vero Molto grave Mi ha fatto delle accuse Molto molto pesanti Tipo? E questa libertà Non gliela ha negata nessuno Sì ma Accuse pesanti quali? Dillo se no Avrei potuto segnalarglielo Quel video Avrei potuto buttarglielo giù Molto tranquillamente Non l'ho fatto A Oxo A Oxo ha regalato Un abbonamento A Alta 1996 Quindi abbiamo anche L'amante delle tette Alta 1996 Che verrà nel nostro Gruppo Telegram Benvenuto E grazie mille A Oxo Moxa Per aver regalato Il suo Settimo abbonamento Grazie a Oxo Dopo aver anche donato Questa sera Vabbè Quando vieni in Italia Ti offro una scena Matematico Ma Spero che tu possa Venire presto A Trovarci in Italia Non l'ho fatto Secondo il suo ragionamento Va in tilt tutto Avrei potuto buttarlo giù E non l'ho fatto Invece no Io non l'ho Ma in che modo Avresti potuto buttarlo giù? Avresti sicuramente potuto Segnalarlo Come forse Hai fatto col video Di cui mi è arrivata La segnalazione oggi Ma Perché Avrebbero dovuto Buttarlo giù? Non ci sei te In quel video Non ci sono spezzoni Del tuo video Cioè Per cosa Avresti dovuto farmi Lo strike Fatto perché Io credo Nella libertà d'espressione Non gli ho negato La libertà d'espressione Quello che lui fa È pensare che il mio canale Sia tipo La piazza pubblica Che io gli sto impedendo Di andare nella piazza pubblica E parlare Gli sto mettendo il guanto In bocca Non è così Non l'ho mai detto Il mio canale È casa mia La mia proprietà Io sono liberissimo Sul mio canale Di bloccare chi voglio Quando tu su facebook Blocchi qualcuno Nessuno ti può venire a dire No aspetta tu non lo puoi bloccare Adesso devi fare il processo pubblico Devi raccogliere i testimoni Esatto Ma sta dicendo Una stronzata dietro l'altro Io non ho mai detto Che lui non possa Bannare Bloccare O cancellare commenti anche Io ho solo detto Che lui ha cancellato Il mio commento Che semplicemente era Vabbè Dopo lo vediamo Devi dare una motivazione No Il profilo è mio Blocco chi voglio io La pagina è mia Blocco chi Benvenuto Whitecrayd90 Grazie per il follow Mai detto che doveva Darmi una motivazione Voglio io Quindi già questa è una stronzata Come concetto Cioè se uno Volesse bannare Tutti quelli che hanno il cognome Che iniziano perenne È un suo diritto Nessuna libertà è stata violata Perché la pagina è sua Non è di tutti Se la pagina fosse di tutti Fosse come una piazza Si potrebbe fare questo ragionamento Essendo che la pagina è sua Affermare che ci sia Una limitazione della libertà di espressione Come fa Chirio È sbagliato Sia eticamente Sia filosoficamente Sia giuridicamente Non l'ho mai fatto Ed è molto grave Che faccia questa insinuzione Veramente grave Sa O sa di mentire Sapendo di mentire Oppure parla con grande ignoranza Di temi che non gli competono In entrambi i casi Però non dovrei parlare Mai fatto Io ho detto sicuramente Delle cose vicine Ai regimi totalitari Quando uno cancella Dei commenti Si chiama censura È vicino A un regime totalitario Ma è un regime totalitario Che tu stai facendo In casa tua Io non ho detto Che non lo puoi fare Assolutamente Stai censurando Perché quello è censura Lo stai facendo in casa tua Quindi va bene Quindi è un po' Come se uno viene a casa tua Ti insulta Ti tratta male E poi se tu lo butti fuori Da casa tua Dici No mi stai violando La libertà di espressione No zio Questa è casa mia A casa mia Dici Io Per citare politici Io a casa mia Decido Chi voglio avere Chi no E che tu non si parla Chi no Hai cagato fuori dal vaso Hai voluto parlare male Non stai più a casa mia Sarei liberissimo Di parlare male di me A casa tua A casa tua Fai quello che vuoi Grazie mille Mister Tazzo Per esserti confermato Capo clan Per il quarto mese di fila Grazie caro Grazie tesori Grazie a tutti Siete veramente fantastici Siete veramente stupendi Mi affaccio quello che voglio io Questa è un'ingiustizia Quindi È proprio Eccoci di nuovo Sempre per il caro Chirio Anche per questo nuovo Chirio La sua libertà è intonza E anzi Lui si è fatto Le sue belle 4.000 Le sue belle 5.000 views Alle mie spalle Grazie Morte Bianca Che mi hai regalato Un caffè al baro Mi deve ringraziare Come ho bannato Perché Si è fatto Le belle views Quindi Di tutto si può lamentare Meno che gli ho fatto un torto Minchia Le belle views No grazie davvero Che mi hai regalato queste 4.000 views Domani posso permettermi Cornetto e cappuccio al bar Grazie Proprio matematicamente Il massimo dovrò aggiungerci 20 o 30 centesimi Però grazie Un bonus Questo è chiaro Bonus cultura Quindi l'idea stessa Del dire Che io gli ho tolto La libertà d'espressione È ingenua Se va bene Ed è malizia Se va male Vedremo quale Ma soprattutto Grazie L'idea del ban Ingiusto Cioè lui dice Vabbè tu mi hai bannato Ingiustamente Stante che non esiste Un ban ingiusto Come abbiamo detto Perché il canale è mio Il canale è suo Lui nel suo canale Ho visto che non banna nessuno Anche gente che fa insulti Veramente pesanti Alla mia persona Gente che mi diffama In vari modi Senza alcuna prova E li lascia stare Le lascio stare Come lascio stare Tutti i bambini Che sono venuti Dopo questo video Se andate Se andate sul mio video Che adesso è pieno Di insulti A me E a tutti i miei follower Anche Ma soprattutto A me ci sta Non ho bannato nessuno Perché io non banno nessuno Non me ne frega niente Io banno solamente Ho bannato solamente Un gruppetto Di 4-5 haters Che facevano Diffamazione Continuativa E sistematica E allora li ho bannati Questo non vuol dire Che se domani Mi gira Non posso bannare Tutti i bambini Che sono venuti A fare la shitstorm Dopo questo video Attenzione Non sto dicendo Che sono venuti Per colpa tua Morte bianca Non capire male Perché se no Ricominciamo Anche perché Questa Sarà l'ultima risposta Mia Su questo argomento Ne parlerò ancora Solamente Se qualcuno Vorrà invitare Me E te O uno dei due Insomma Anche me Se tu non vorrai venire Perché io sono sempre Stato pronto E aperto al dialogo Se qualcuno Di esterno Vuole moderarci E fare un incontro Tra di noi Per me va benissimo Quindi che sia Caverna Angelo Sommobuta Che sia Dario Moccia Che sia Volpescu Veramente Chi ti pare Se ci vuole invitare Per fare un confronto Io accetto Già da ora Io Non ho nessun problema Quindi Se muore il suo canale Lui è libero Di avere una sezione Commenti Che è un porcile Liberissimo Sì Che oggi Grazie ai Follower Che vengono Da questo video È ancora più Un porcile Ma va benissimo Non glielo contesto Però Non puoi venire da me A dirmi Chi devo bannare Chi no Perché il canale È mio Infatti non l'ho mai detto Io non ho capito Questa ipocrisia Di Chirio Che lui deve comandare A me come devo gestire Il mio canale Però io non posso Comandare a lui Come gestire il suo Grande contraddizione Quindi suppongo Che a Chirio Appartenga il mio canale Cioè che il mio canale Sia una succursale Del canale di Chirio Grazie mille Orland Rider Mai detto Quindi lui dice Di non meritarsi il ban Di non essere una persona Che si merita il ban No quello sicuro Il titolo del suo video È morte bianca è un clown Quindi mi insulta Nel titolo del video Mi accusa e mi insulta Nella descrizione del video Non è vero L'abbiamo letta prima E comunque I commenti li hai cancellati Prima che uscisse il mio video Anche perché io il video L'ho fatto proprio per quello Quindi stai dicendo cose Totalmente senza senso Insulta nel video stesso Mi insulta nei commenti Non è vero Non c'è un solo commento Dove io lo insulto Non mi insulto Mai E mi insulta indirettamente Mettendo cuoricini Mi piace Comunque Lui non può vedere A chi ho messo il mi piace Prima cosa Seconda cosa Non ho messo cuoricini A nessuno che lo insultasse E questo lo potete andare a vedere Facendo commenti di risposta positivi Le risatine Gli occhiolini A commenti che mi insultano molto Senti come gli rode Se faccio delle risatine Come gli rode Fortemente Quindi una persona che mi insulta A tutti questi livelli Che mi dà del clown Se lo merita È il ban Possiamo bannare Chi mi insulta No lo decide lui Decide lui Perché c'è sempre questa cosa su youtube Che se una persona ti insulta Tu devi stare zitto E devi anzi interloquire con lei Devi essere obbligato A farci una live Lo ho avuto anche su twitter Madonna quanto tempo Sta perdendo su questa cosa Ma nessuno l'ha detto Che è obbligato Ma a me non me ne frega un cazzo Non gliel'ha mai contestata nessuno La cosa che possa bannare chi vuole Questa cosa ve lo ricorderete Se una persona ti tratta male Tu sei obbligato A tenerla nel tuo canale Se una persona entra in casa E inizia a pisciarti per terra Ad insultarti Tu te la devi tenere in casa Perché se no sei un fascista No signori Non funziona così Oppure sei sul set Del grande Le Boschi Funziona che ci sono persone civili E persone che invece non sanno tenere una conversazione Se non sai tenere una conversazione Io non sono tenuto a sopportare La maleducazione Nessuno è tenuto a sopportare La maleducazione E non si può obbligare qualcuno Ad interloquire Questo è il vero fascismo Ma io non sono stato maleducato Obbligare qualcuno Ad interloquire Obbligare qualcuno Ad avere un dialogo Ad ospitarti a casa mia Sul mio profilo facebook Sulla mia pagina facebook Sul mio canale Benvenuto il panettiere Grazie del follow Sul suo canale Lui è liberissimo di avere il porcile Ma io nel mio canale Non voglio avere Gentaglia del genere Gente che mi chiama clown Gente che mi insulta in vari modi Quindi c'è questo quello che io dicevo Ripeto Clown c'era il punto interrogativo Ed era nel titolo del video Io nel commento sotto al tuo video Non ti avevo chiamato clown Né niente del genere Dicevo Cioè io Questa è una cosa che ho anche detto Ad alcuni che hanno espresso questa perplessità Gli ho detto Scusatemi Se lui fosse veramente Stato bannato ingiustamente E non è così Ma mettiamo caso Ok diamogli il beneficio del dubbio Non glielo do chiaramente Però facciamo finta Diamogli il beneficio del dubbio Che lui è stato bannato In maniera ingiusta Avrebbe avuto occasione Di provarlo Come si dice No se una persona Ti rattamale Devi essere superiore Non devi scendere al suo livello E anzi peggiorare Cosa che non ho fatto Ripeto Perché bannare non è un torto E infatti Infatti io Quando mi ha cancellato il commento Gli ho scritto un altro commento E gli ho riscritto quello precedente Scrivendogli Ma il mio commento cancellato Che fine ha fatto Al che lui non ha risposto E ha cancellato anche quello Grazie mille Ler Conte E Cape Mattovi Non è un suo diritto Stare sul mio canale E sproloquiare Fare Cerchiamo di stare calmi Stai calmo E portare Oh Ribenvenuta E le caris Grazie carissima Che sei abbonata Per il quarto mese Ciao cara Tenuti discutibili Ok Lui avrebbe potuto Tranquillamente dire Guarda molte bianca Non sono d'accordo Questa è una cosa che ho sempre detto Se uno è stato bannato Se uno pensa di essere stato bannato ingiustamente Mi può scrivere in qualsiasi social Mi può scrivere in posta Mi può scrivere su facebook Su instagram Ma non ti può scrivere nel commento Mi può scrivere Perché io ti ho scritto sul commento Sotto al commento cancellato E non mi hai risposto Quindi Penso che stessi seguendo quel thread Visto che avevi appena risposto E se non sbaglio Hai pure risposto A diavolo Un altro utente Che ti faceva notare la stessa cosa Prima di cancellare E bannare anche lui Come si denota Dallo screen Che lui mi ha mandato E dopo vedremo Wattpad Mi può scrivere su Su telegram Mi può scrivere su Mi può scrivere su Mi può scrivere su Stim E tanti altri soci Su twitter Quindi Se il signor Chirio Fosse convinto Che io gli ho fatto un torto Avrei potuto No non me ne frega niente del torto Allora non ha capito ancora Ma perché Tranquillamente O scrivermi in privato Quindi ce la risolvevamo in privato Cioè veniva da me Mi diceva Mortebianca Tu mi hai bannato Guarda sono stato un po' pesante Con le parole Allora hai totalmente ragione Matteo 7803 Che sta dicendo Questa cosa non c'entra nulla Con quello successo con Chirio È solo retorica Per far capire Quanto lui sia buono e bravo Esatto Non c'entra assolutamente nulla Niente Niente Grazie mille Orcomanda E Morkoc Benvenuti Ci siamo capiti male Oppure mi diceva tranquillamente Guarda Mortebianca Secondo me Mi hai bannato per sbaglio Oppure no Mortebianca Non è andata come dici tu E la risolvevamo tranquillamente È successo Di persone bannate Che sono state sbagliate Tranquillamente Ho dei testimoni Che possono testimoniare Sia su Instagram Sia su Youtube Sia su Facebook Persone che sono Guarda com'è bellino Il nome di Volpescu Con quell'astro boy vicino Eh Sono state sbannate Perché o sono state bannate Con un errore Cioè pensavo di bannare Un altro e loro Oppure ho letto male Oppure persone Che sono state bannate Per una ragione giusta Però hanno dimostrato pentimento E tranquillamente Sono state sbannate Ok Sono un essere umano Posso sbagliare come tutti Mai negato questo Mai affermato Kiryu Poteva risolverla privatamente Come fanno gli adulti Oppure poteva risolverla pubblicamente Poteva fare una live Dicendo Live di chiarimento Mortebianca può entrare Ci chiariamo Potevo venire tranquillamente Poteva fare una cosa simile su Twitch Poteva farmi un post Ciao Luca Invece no Kiryu ha colto la palla al balzo Non aspettava altro E come vedremo tra poco Posso dimostrare Che non aspettava altro Quindi non era affatto Un innocente Che si vendica No no A parte che la vendetta Non andrebbe fatta Tra persone adulte Ma vendicare di cosa? Mortebianca è un clown Mortebianca è un clown Lui si è pure difesa Mi chiamano clown Almeno 100-150 volte al giorno Dire sono ironico dopo Ammesso che sia vero o meno Forse non riesci a sopportare Il minimo di insulti Ma per un canale Dei tuoi follower Sotto al mio video Che sono arrivati oggi Allora Cosa che non possiamo verificare E non credo proprio Ma va bene Non mi comincerai del contrario Sono sempre insulti Oppure dico sempre io Anche il mio ban è ironico In che senso? Tu mi hai insultato veramente Però la devo prendere a ridere? Sì Anch'io ti banno veramente Sto perdendo tempo su questo ban E non è che La libertà funziona a senso doppio Cioè non è che puoi fare solo tu Io invece sono limitato Perché questo lui dice Lui mi può fare il video Mortebianca sei un clown E io devo stare zitto Zitto Mortebianca sei un clown Mentre io non posso gestire Il mio canale come vuole Scusami Tu puoi gestire il tuo canale come vuoi? Puoi lasciare che la gente Mi dia del cretino Mi insulti Puoi avere il porcile nei commenti Puoi darmi del clown Eccetera eccetera Sì E io non posso gestire Il mio canale come voglio? No Quindi ci sono cittadini di serie A Come Kirio E cittadini di serie B Come me Quindi c'è una razza superiore Questo potrebbe essere Ma non per quel motivo lì Non ho capito bene Quindi questa ipocrisia Che è contraddittoria Poi vabbè Ho visto alcuni commenti Che erano veramente In cui lui diceva Ma un tizio che insegna filosofia Dovrebbe saperlo Che non dovrebbe Parlo così Un tizio che insegna filosofia A parte non ho mai detto Insegna filosofia Ho detto uno che fa tanto il filosofo Non uno che insegna filosofia Ma come le vede le robe? Censurare Esatto La filosofia è totalmente Contraria alla censura Quindi non avresti mai dovuto Bannare Né censurare Nessun commento In vita tua E invece Metà della gente Ti conosce per questo Comunque Quindi Kirio poteva risolverla Tranquillamente Sia in privato Senza fare la sceneggiata Sia in pubblico Sia nei messaggi Che gli ho scritto Ma che Ha cancellato O a cui non ha risposto Io poteva dirmi Guarda Mortebianca Mi hai bannato Questo non lo trovo corretto Invece no Lui ha fatto subito il video Ha subito presunto le mie intenzioni Cioè di censurare le persone Che non la pensano come me Non ha mai presunto Forse ho usato un brutto L'ha fatto dopo il video Dopo che lui non mi ha risposto A quei commenti Che poi ha cancellato Forse Mortebianca Mi conosceva già da prima E non gli piacevo come youtuber Forse mille altre cose No Ma perché Avrei dovuto pensare Che Mortebianca Mi conosceva già da prima E non gli piacevo come youtuber Che cazzo di motivazione è Allora Dovrei pensare Prima di lasciare un commento Sensato a qualcuno Se mi conosce già come youtuber Ma poi Mortebianca Ma non sono Un piccolo canale E non morente Di nemmeno 10.000 iscritti Allora voglio dire Ma cosa Come facevi a conoscermi Cioè Presunto Mortebianca Censura le opinioni Di chi non la pensa come lui Cosa che non poteva fare Perché lui non mi legge nel pensiero Grazie a Dio Aggiungerei Ripeto Se anche E non è così Ma se anche Lui fosse stato bannato ingiustamente Aveva occasione di smentirmi Poteva fare il superiore Poteva dire Mortebianca mi hai bannato Ma io sono Io non sono così Non sono un tizio Che merita di essere bannato E invece Quel pezzo di merda di Mortebianca Quel figlio di stronza Quel clown del cazzo Ma perché mi ha bannato Non capisco proprio come Possa uno come me Ad essere A meritarsi di un ban Da quel disgraziato di Mortebianca Cosa posso aver fatto La gente nei commenti Scusami però Se già hai titoli così Mi fai capire Che genere di persona Sei Che genere di commenti Puoi fare Che genere di atteggiamento Sprezzante puoi avere Cioè zio Ognuno ha il suo alibi Cazzo il tuo alibi Te lo costruisci un pochino Vuoi dimostrare Di essere una persona innocente Ed esordisci con un insulto Mi hai insultato Mi dai del clown Non ho tentato del clown Ripeto Perché lui Ne ha fatto quasi un vanto Di superiorità Io non vanno nessuno Nei tuoi commenti Cazzo te ne vanti pure Te ne vanti pure Che hai il porcile nei commenti Ma fai pure Però non obbligare me A fare la stessa cosa Se tu non vuoi avere cura Dei tuoi iscritti E della tua community E vuoi lasciare Che crescano le erbacce Problemi tuoi Già che te ne vanti Secondo me è un problema Ma non obbligare me Io conoscevo già chi Questi commenti Di merda Che dice lui Ci sono solamente Sotto a quel video E il 99,9% Sono di gente Che segue lui Da quello che sembra Quindi Boh Non so a cosa Si stai riferendo Perché Gli altri miei video C'è Il documentario Sulla storia del manga Quelli su Tezuka Capolavori manga Tutte le recensioni Le news Che dopo devo anche finire Porca troia E mi sta facendo perdere Ore e ore E non sta stronzata Non ci sono Non c'è nessun commento Da porcile Lo puoi andare a vedere Tranquillamente Cioè sono proprio Credo una Delle community Più pulite Più serie Più tranquille Su Youtube Italia Tranquillamente Ma vediamo che ora Deci che di conoscermi È interessante Quanti secondo me È un problema Ma non obbligare me Io conoscevo già Chirio L'ho detto Sia in privato Anche nel gruppo Patreon Sia poi in live Sia poi nel pubblico Conoscevo già Chirio Di infamia Conoscevo già Il sommo Mi conosceva di infamia Modo di fare Molto saccente Molto spaccone Molto La so più di voi La so lunga E voi siete tutti Ignoranti Che la so più di te Credo si sia proprio Dimostrato alla grande Per quanto riguarda Il rapporto con il mio pubblico Penso di non aver mai Mai Dato l'impressione Quasi a nessuno Credo di essere uno Che se la tira Perché ha letto tanto Scrivetemi poi Se vi ho dato Un'impressione diversa A me non sembra Sapete niente C'è questo atteggiamento Qui che non mi è piaciuto Non sono d'accordo Con quasi nessuno Dei suoi video Penso che se una persona Che di manga Ne sa veramente Molto poco Penso che dovrebbe Effettivamente studiare Molto Penso che se Andiamo un attimo Indietro Scusate So che dura un sacco Non sapete niente C'è questo atteggiamento Qui che non mi è piaciuto Non sono d'accordo Con quasi nessuno Dei suoi video Non è d'accordo Con quasi nessuno Dei miei video Che credo non abbia visto Penso che se una persona Che di manga Ne sa veramente Molto poco L'ha detto davvero Sì sì Ne so poco Di manga Ne so poco di manga Morte bianca So quelle due o tre cose Che sanno un po' tutti Cioè A meno Di non essere proprio Uno che Ha letto tre manga So ad esempio Che Un seinen È quello che viene pubblicato Su una rivista seinen Uno shonen È quello che viene pubblicato Su una rivista shonen So proprio le basi Queste due o tre cose Poi Basta Penso che dovrebbe Effettivamente studiare Molto la questione Sicuramente Sicuramente Ha un atteggiamento Molto superficiale Nelle sue recensioni Sicuramente Ah è vero Perché non ho nominato Hegel E non ho parlato Dei trops È vero Superficiale Ha un atteggiamento Sprezzante Molto sgradevole Anche a livello personale Proprio come essere umano Sì 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 No quella Infatti Sì 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 Non mi è piaciuto Perché come essere umano Vabbè Sembra Quasi Che viviamo in sia A questo punto Cioè pensavo Non mi conoscesse neanche Che non mi avesse mai sentito nominare Sembra quasi Convivente Mia Come si è posto Nei miei confronti E voi mi potete dire Vabbè Mortebianca Ma non puoi esserne certo Non puoi essere sicuro Che è proprio una persona sgradevole Adesso ne abbiamo la prova Mortebianca clown Insulti 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 Adesso posso esserne sicuro Quindi ci ho fatto benissimo Anzi avrei dovuto bannarlo prima Quello è stato il mio errore Ma bannare cosa Che non ti ho mai cagato Avevo visto due video tuoi Quello è l'unico errore Di cui mi scuso Non aver bannato prima Chilio Avrei dovuto bannarlo prima Adesso Si sa per cosa Perché non l'ho mai cagato Sarò molto più cauto Adesso che abbiamo Completamente distrutto Ogni possibile Nulla Totalmente nulla Accusa Ogni possibile difesa Scusatemi Ogni possibile difesa Dell'accusa Di Chilio Possiamo reagire al suo video Che per fortuna È di soli 10 minuti e 9 secondi Perché io non potevo Non è che mi metto Un'ora E 4 minuti E 30 secondi A ripetere le stesse Puttanate Per Tutto il tempo Bastano 10 minuti Come bastavano 10 minuti Per dire Quello che hai detto Fino a ora Portare già giù La vendetta E neanche voi E possiamo sentire Le mirabolanti Affermazioni Di me Che sono Il neonato Hitler Questo video Non lo volevo fare Madonna ma che audio Di merda Mi fanno male le orecchie Vaffanculo Non inizia Oh ma Vaffanculo Mi sta affettando Mi ha detto Vaffanculo No vabbè Qui denunzia Querela subito Mi ha detto Vaffanculo No No non ti denuncio Scherzo Ma mi puoi dire Vaffanculo Quante volte vuoi Ma che me ne frega A me Iniziare così Lo volevi fare benissimo Ti sei vorrei fatto Le big views Dai Big views Per 5000 views Grazie mille IQ zero Sì sì Mi ha proprio detto Fanculo Mi ha offeso Per favore Un attimo So cosa state pensando Ma questo video Io non lo volevo Davvero fare Non ci crede nessuno Vabbè Non come il 99,99% Il mio non lo volevo fare È Riferito al fatto Che non volevo farlo Perché non avrei voluto Che lui cancellasse I commenti Tutto lì Come faccio capire adesso Delle persone Che inizia Un suo video Con Questo video Non lo volevo fare Quando in realtà È il loro video Della vita E non aspettavano Altro di poterlo fare Viste le views È il tuo video Della vita Ho Ho dei video Con 90.000 views Quindi non credo Sia quello Visto un certo commento Che hai fatto Non aspettavi altro Che farlo Quale commento Ma dillo però Io questo Non volevo davvero Arrivare a farlo Perché ci sono Dei comportamenti Che mi danno Fastidio Più di ogni altra cosa Se non volevi farlo Perché non mi hai contattato Tu in privato Perché ti ho contattato Sotto al video Nei commenti Dove non hai risposto Perché non mi hai iscritto Nella mail Su facebook Su twitter Hai avuto 10.000 possibilità Di farlo E hai fatto il video Pochissimo dopo Il fatto Il giorno dopo Ho aspettato Che mi rispondessi Al commento Tutta la notte Il giorno dopo Alle Se non sbaglio L'ho pubblicato Alle 14.30 Quindi hai avuto Tutta la sera Cioè tutto il giorno Tutta la sera Tutta la notte E tutta la mattina dopo Per rispondermi Al commento Dove ti chiedevo Come mai Mi avesse cancellato Il commento E non l'hai fatto Quindi non Non ci crede nessuno A questa tua versione Di te Che non No no ci credono Ci credono Come no Benvenuto Melancholy Jayster Non lo vuoi fare Che resisti Per 10 anni Prima di farlo Non ci crede assolutamente Nessuno Caro Chirio Cosa E questi Sono i comportamenti Che hanno a che vedere Con i regimi Totalitari I regimi Totalitari Quindi il mio canale Il mio canale Io non posso fare come voglio Sul mio canale Non ho detto che non puoi farlo Ho detto che censurare È accostabile A un regime totalitario Cioè è italiano Non è difficile La censura È censura Ripeto A prescindere che io non ho censurato Le opinioni dissidenti Lo hai fatto Con il mio commento Anzi ma vediamocelo subito Un attimo Il commento Così Vi faccio vedere subito Dov'è che Che lui ha Ha censurato I miei commenti E poi possiamo andare avanti Lo sbugiardiamo subito Perché tanto Non c'è bisogno Di aspettare Più tardi Allora Questa è la rivista Che lui Diceva Questo non c'entra nulla Troviamo gli altri Allora Aspetta Fatemi bere un attimo Perché Sono veramente Se no Con Tutto Allappato Andrei 940 Se hai Amazon Prime Può collegarlo a Twitch Sì esatto Bravo Paolo Sculli Ah e vedo Devo dire Trops Egeliani Ogni tanto Mi dimentico Allora Partiamo dal primo screen Chiaramente E ovviamente Vi dico Gli orari Che ci sono Sugli screen Così Diciamo Vi fate anche La vostra idea E vediamo Tutto quello Che è poi In base A quello Che dice Anche lui So come mai Me lo fa vedere Qui gigante Lo devo Rimpicciolire Un attimo Allora Questo è il primo Praticamente E Del 14 Quindi Se non sbaglio Era stato pubblicato Il 14 Di ottobre Quando ho fatto La reaction Praticamente Al Al suo video Alla sua top Ricordo A morte bianca Che può avvenire Con un perito Tecnico A casa mia Se vuole Ad analizzare Questi screenshot Per vedere Se sono Photoshoppati Quindi Questo è di Mezzanotte 25 Ma Il mio commento Era Di due ore fa E dice Ma come fa One Punch Man Ad essere un ottimo Shonen Dato che è un seinen È modificato Perché probabilmente Avevo Mi era scappata Qualche parola Con il correttore Automatico Io se vedo Che c'è una virgola Fuori posto Devo per forza Modificare Mi risponde Dag02 L'ha spiegato Proprio nel video Non mi sembra E io gli rispondo Non c'è niente Non c'è niente Da spiegare Lo shonen È un target Non un'opinione Personale Chiaramente La live Di questa sera Non verterà Sul fatto Shonen Seinen Target Genere Ah è vero Mi ricorda Michele Mari Che avevo scritto On Punch Man Mentre eravamo in live E l'ho modificato direttamente in live È vero È vero Quindi c'è proprio la prova Nella live Sì Avevo scritto On Invece di One È vero Ecco perché l'ho modificato Grazie Michele Ti ricordi anche le cose Che non mi ricordo io Quindi non è Non è Non parliamo di Di questo Perché ovviamente Quello è indiscutibile Eh Lo ha detto Cioè Come se ci fosse bisogno Lo ha detto poi anche Dario Moccia C'è la clip Che ho messo anche su Facebook Dove dice che Target Il target viene definito Dalla rivista di pubblicazione giapponese Quindi Eh Ok Questo è il primo Quindi io gli dico Eh Ok Poi Secondo screen Secondo screen Mezzanotte e 25 Deg02 Mi dice Tu non sai nemmeno La definizione di Shonen Vabbè E io gli rispondo Pubblicato su una rivista Shonen Uguale Shonen Non esiste altra definizione Lui mi risponde Peccato che One Punch Man Sia stato pubblicato Sia come Shonen Che come Seinen Quindi ripeto Studia un po' le parole che usi Ma va bene A questo ho già risposto nel video Andiamo con il terzo screen Il terzo screen Ah il terzo screen Io gli faccio sopra Su quale rivista Shonen è pubblicato E mi risponde Morte Bianca Shonen Jump Alpha Allora Ricordiamoci Questo è Mezzanotte e 26 Lo screen Il mio commento è 44 minuti fa Quindi Delle 11 e 40 Più o meno 11 e 45 Con la matematica sono una merda Però 11 e 40 45 dovrebbe essere Ditemi se sbaglio Poiché siete più intelligenti Di me E mi dice Shonen Jump Alpha Io gli rispondo Ma che c'entra Scusa Shonen Jump Alpha È una rivista americana Anche diversi editori italiani Indicano il target In modo totalmente random Quello che conta È ovviamente Su quale rivista giapponese È pubblicata l'opera Come abbiamo detto io Dario Insomma tutti quelli Che leggono manga Da più di Due minuti Sanno Ma non è questo il punto E questo È il commento Che lui ha cancellato E Quello Che Io Praticamente Cancellato O nascosto Ai suoi utenti Non si sa se è veramente Cancellato Perché io A un certo punto Li vedevo Poi non si vedevano più Se andavo Dal Da un altro computer Di un altro utente Non lo vedevo Quindi Forse non li ha proprio cancellati Ma li ha tipo Nascosti Li ha shadow bannati Non so Io non Non banno nessuno Non cancello nessuno Quindi Ah mi dice Sì Fa così Li oscura Esatto Io non cancello niente Quindi non so come funziona Grazie mille Midnight Ita E questo È il È il commento Kirio se vai Nella sua descrizione Ha messo delle prove Che non ha cancellato I tuoi commenti Sto smentendo In questo momento Le sue prove Che ho visto Ovviamente E le sue prove Si fermano A questo messaggio suo Che dice Shonen Jump Alpha Infatti Il commento mio Cancellato È questo di sotto Quello di sotto Che dice Ma che c'entra Scusa Shonen Jump Alpha È una rivista americana Anche diversi editori italiani Indicano il target In modo totalmente random Quello che conta È ovviamente Su quale rivista giapponese È pubblicata l'opera E dopo infatti Vediamo che questo commento È sparito Perché Ora lo vediamo Andiamo con il prossimo Screen Il quarto Allora Il quarto Vedete questo infatti È C'era il mio sopra Quello che conta Ovviamente Su quale rivista giapponese È pubblicata l'opera Sempre mezzanotte 26 E Diavolo Un mio utente Oh Grazie Orange Benvenuto Benvenuto Orange E ai suoi spettatori Grazie ragazzi Benvenuti Ciao carissimi Mezzanotte 26 Dicevamo quindi Diavolo Un mio utente Gli dice più o meno Quello che gli ho detto io Ovvero Ma è una rivista pubblicata Da Viz Media In territorio americano Pure per Goen Dentro Mari È uno shonen commedia Ma Quando in realtà È un seinen Drammatico psicologico Mica se domani Fai una top Ten Comedy Ce lo schiaffi dentro Spero a questo punto Grazie mille Yogsogot Per il follow Poi Andiamo al prossimo Il quinto Dove lui mi dice Sempre in mezzanotte Ah qui è mezzanotte 58 L'ho fatto dopo Quando poi mi ha risposto lui Infatti il suo era di 10 minuti fa Rispetto a questo Quindi fammi capire Contano alcune riviste Non altre La scelta editoriale Va bene Finché conviene a te Esatto Io gli rispondo Ma stai dicendo seriamente Conta la rivista giapponese Su cui è pubblicato Non è che se domani Un editore polacco Decide che Death Note È un romanzo Harmony Allora diventa sia Shonen che romanzo Harmony PS Ma il mio commento Cancellato Come a dire Perché mi hai cancellato Un commento E gli ho detto Di questo commento Cancellato Perché Come vediamo qui Dallo screen successivo Vi ricordate che c'era il mio commento Sopra a quello di Diavol Perché qui Vediamo intanto l'orario Mezzanotte e 2 Vedete Tutto torna Dove Morte Bianca Risponde Shonen Jump Alpha E io gli rispondevo Ma che c'entra Shonen Jump Alpha Che è una rivista americana Che c'entra con quella giapponese Del Target C'è direttamente sotto Il commento di Diavol Non c'è più Il mio commento Sì 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 Anche quello sopra Dove chiedo Esatto Esatto Anche quello sopra Mi ha fatto notare Adesso Paolo C 042 Non l'avevo neanche visto Perché mi concentravo Su quello Praticamente Vedete Sotto alla risposta Di Deg 02 Che dice Peccato che sia stato Pubblicato come Shonen E come Seinen Io gli dicevo Ah sì Su quale rivista E poi Morte Bianca Mi rispondeva Shonen Jump Alpha Non c'è neanche Il commento mio Dove dice Su quale rivista Quindi è stato cancellato Il primo E il secondo E poi Morte Bianca Ha portato le sue Prove Dicendo appunto Che il mio commento C'era ancora Il mio commento Che è quello principale Quello che intende lui Non questi due Che ha cancellato E sono quelli Che io ho detto Chirio Chirio Ma c'è un altro video Che dice Morte Bianca È un clown Punto Di Gallo Caricato 47 minuti fa Chi è questo? Dopo ce lo vediamo Non lo sapevo È tutto bellissimo Vabbè 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 Anzi aspettate che prima che lo Che lo banna Me lo voglio salvare Un attimo Io voglio salvare Questo video Me lo scarico direttamente Grazie mille Alex Schubutaro Luce Lione Ma bellissimo L'ho visto adesso Che c'è sto qui È allucinante È allucinante Speriamo che Non mi si Non mi si blocchi tutto È ora Che scarico un attimo Sto video Spero di no Perché è piccolino Quindi se il lag Un attimo Ok Andrebbe ad esserci Si dà domanda Ad affermazione La mia era una domanda Quindi non è offensivo Sicuramente Allora Allora Giustamente mi diceva Vai a vedere Col tuo account Per far vedere Che il commento È stato solamente oscurato Andiamo a vedere Infatti Allora Video Top Migliori anime Tal mondo degli anime Per numerosità Non ci interessa Allora Ah tra l'altro È il primo Esatto Esatto Vedete C'è ancora C'è ancora Aspetta che tolgo Lo screen Tolgo lo screen Qui davanti Se io entro Se io entro dal mio account C'è ancora Vedete Sopra c'è quello che dice Su quale rivista Shonen è pubblicato Lui risponde Shonen Jump Alpha E sotto c'è il mio commento Che dice Ma che c'entra Scusa Alpha è una rivista americana Cioè nel senso ragazzi C'è tutto C'è proprio tutto C'è proprio tutto Mentre quello di Diavol Aspetta È Diavol Quelli di Diavol Infatti Che poi mi aveva scritto Di essere stato bannato Non ci sono Quelli di Diavol Non ci sono proprio Infatti Perché infatti Quello di Diavol Era sotto al mio Che E infatti Io Qui sopra Vedete Scrivo anche Come mai ha sperito Il mio messaggio Che diceva E Li ripeto tutto E lui non mi risponde A questa cosa Vedete Come ho detto prima Io gliel'ho scritto No Morte bianca Taggandolo Come mai è sparito Il mio messaggio Che diceva Tra virgolette Ma che c'entra Scusa Shonen Jump Alpha È una rivista americana Anche diversi editori italiani Indicano il target In modo totalmente random Quello che conta È ovviamente Su quale rivista giapponese È pubblicata l'opera Vedete Cioè E poi è stato Due ore nel video A dire come mai Io non gli ho chiesto nulla Ho fatto il video Senza chiedergli nulla Cioè qui E l'ho chiesto qui E la sua risposta è stata Quindi fammi capire Contano alcune riviste E non altre La scelta editoriale Va bene Finché conviene a te Senza menzionare Il commento A questo punto Non cancellato Oscurato Lo ha solamente oscurato Io non so Non sapevo Della possibilità Di poterli oscurare Perché non l'ho mai fatto Non so cosa sia Questa Oscurazione Ah lui ha detto Che l'ho cancellato io Come vedete Qui siamo Con Con il mio account No Che cazzo ho fatto Aspetta che ho allargato tutto Ho slargato tutto Slabrato Ogni cosa Sono entrato con il mio account E ci sono i messaggi Quindi io non ho cancellato Assolutamente nulla Assolutamente nulla Quindi se sta dicendo Che l'ho cancellato io Ah a fine video Fa finta di scoprire In diretta Che lo hai eliminato Bellissimo Bellissimo Cioè quindi L'abbiamo spuzzanato Totalmente In pratica Ditemi No Ditemi a che A che minuto Dice questa cosa Vi prego E' stupendo Ce l'abbiamo sputtanato Completamente Totalmente Così Allora Cioè Ragazzi Io Andrei anche quasi Alla fine Del Del suo video Dove dice questa cosa Perché tanto Cioè Tutto il video Non me lo guardo neanche Cioè poi me lo guardo Da solo Magari Per vedere cosa dice Ma Non Non ve lo voglio neanche Far Far sorbire tutto Perché insomma Ci tengo alla vostra Saluta mentale Quindi Già ci ha Ammorbato Per Per un po' Cioè Andiamo un attimino Avanti E vediamo Di quando dice Questa cosa assurda Che abbiamo appena Dimostrato Non essere vera Perché cioè Ragazzi Io sono qui Con il mio account E lui Sta dicendo Che Sta dicendo Che Non voglio Un attimo Allargare Ma cazza Si fa Porca Puttana Non capisco Non capisco perché Non mi fa vedere Ah ecco perché Ho tolto sopra No volevo far vedere Giusto che ero Con il mio account Perché se no Questa magari Fa un pippone Dicendo che non è vero Ecco appunto Qui sopra Si vede Qui Che sono con il mio account Sono entrato E Sotto Ci sono I commenti Che lui dice Che io Ho cancellato A questo punto Non lo sapevo Non lo sapevo Che lui dicesse Che li avevo cancellati io Sono venuto a saperlo adesso E Comunque Insomma qui Si vede chiaramente Che i messaggi miei Ci sono ancora Che io non ho cancellato nulla E quindi evidentemente Sono stati tolti Da Da lui O da lui O da uno dei suoi mod Perché poi magari lui dice Lui dice che comunque Sarà stato uno dei suoi mod Magari Cerco di anticiparlo Perché se no Non ne usciamo più Anche se io Ripeto È l'ultima volta Che parlo di questa cosa E Cioè Veramente Solo se qualcuno Ci invita in live Per Per parlarne Allora In quel caso Se c'è un moderatore Qualcuno di serio Come Caverna Sommobuta Sommobuta Andiamo Alla fine Rispondete al sondaggio E poi vediamo Un attimo Il da farsi Anche perché siamo Un'ora e trentacinque Di live E tanto Nel senso Se continua così Molti Conferma I regimi Totalitari Ma non si vergogna A fare un paragone Simile No A paragonare Hitler Stalin Ad un tizio Che lo ha bannato Siccome questo tizio Mi ha bannato Facciamo un paragone Con Hitler La censura E questo non sarebbe Il drama Non sarebbe il flame Questi sarebbero Gli youtuber Misurati e pacati Sottolta Abbannato Bene Facciamo un paragone Con Adolf Hitler Come si mette La velocità 2x Che mi dite di mettere La velocità 2x Aspetta Velocità di riproduzione 2x Vediamo come va Vergognoso Vergognoso Non vedeva l'ora Di farlo sto video E con cose molto Molto pericolose Ma 2x forse è troppo Aspetta Non ci capisco un cazzo Mettiamolo A 1,75 Dai proviamo Intanto grazie mille a Cristian Arcidiacono Benvenuto nel clan Benvenuto Grazie per il follow Ricolose Madonna Gli anitubers Sono veramente Tossici Tossici Ma poi gli anitubers Non sono quelli Che si occupano di anime Io parlo di anime Una volta ogni morto di papo Il video degli anime Dicevo che cos'è un anime Secondo me 12.000 video risposta Manco avessi suffragato L'olocausto Queste sono le cose pericolose Per gli anitubers Dovete reimpostare Le vostre priorità Ragazzi Avete dei 6 problemi Di priorità Se per voi Queste sono le pericolosità Il ban su youtube Ma vaffanculo Mi ha ridotto Vaffanculo Ragazzi Questo è gravissimo Grazie Certo che c'è stata La censura L'abbiamo appena dimostrato La marchetta Ha fatto pure la marchetta Ma proprio spudorato Eh infatti Non posso fare la marchetta Sul mio video Vabbè sì Posso saltare ragazzi Posso saltare O prima che mi accusa Che sto saltando pezzi Fondamentale Infatti lì sul canale Spesso cazzeggiamo Anche guardando Di video di youtube Avevamo appena commentato La top 10 manga Di manga 96 Del buon Luca E Foxounder Mi ha chiesto di guardare La top manga Di morte bianca Anche io ho accettato subito Ovviamente Quando i miei utenti Mi fanno qualche richiesta Soprattutto Quando senti l'odore di views Facile di flame Proprio subito Video legati a manga O anime Io accetto molto Di buon grado È molto di buon grado Anche se morte bianca Effettivamente Non è che lo conosca così tanto Segnateva questa parola Morte bianca Non è che lo conosca così tanto bene Segnateva Perché ci tornerà utile dopo Sempre perché questa è una persona sincera Ti sei scelto il nemico sbagliato Vediamo Vediamo Sono proprio curioso Sono proprio curioso Perché te non hai nulla da perdere Ti farai le tue big views Ti farai magari qualche iscritto in più E via di giù di lì Bene Lo conosco per il dissing Per la polemica Che c'era stata con il buon Giaju A cui avevo fatto già una reaction Che trovate qui sul canale E poi l'unico altro video Che avevo mezzo intravisto Era quello dove se non sbaglio Comunque dava contro A caverna di Platone Sulla questa Esatto E più che altro Quello di caverna Che rispondeva a morte bianca E neanche tanto il suo Dove avevo anche commentato Dicendo che questo morte bianca Secondo me non capiva un granché O una sega forse O addirittura Proprio in base a quello che diceva a caverna In entrambi i casi Diciamo che la mia opinione Era abbastanza in disaccordo Con quella del signor morte bianca Ad ogni modo Non lo so Già questo è abbastanza disonesto Dire il video contro caverna di Platone Non ho mai fatto un video contro caverna di Platone Come non hai fatto un video contro caverna di Platone No Hai fatto il video contro Contro quello che diceva caverna In cui parlavo dell'etica e della filosofia di Death Note In cui mettevo a paragone Kira e Dell Parlavo di 20 minuti di questo Poi negli ultimi due minuti C'era una critica a caverna di Platone Che risale da Eh ma siccome io ho visto La Ho visto la risposta di caverna Dove rispondeva Alla critica di morte bianca Per me Era una cosa contro caverna Che tu abbia fatto un video O due minuti Mi interessa poco Anni fa Io e i caverna di Platone ci siamo riaplacificati Quindi giudicare E' molto disonesto come la metti in questo modo Cioè morte bianca fa il video contro caverna Non è vero Io ho fatto un video sulla filosofia di Death Note Lui è completamente dissato su quell'argomento Che è molto approfondito se permetti E ti sei concentrato sul dissing Che la trovo una cosa abbastanza parziale Abbastanza disonesta francamente Siamo in live Guardiamo questa cosa Ci tengo a precisare che siamo a 2 minuti e 6 secondi Quindi siamo al Siamo al 20% del video Siamo al 20% del video Di morte bianca è un clown Zero argomentazioni Zero dimostrazioni Morte bianca è un clown? Io non lo so cosa gli spinge a fare questi video Tra l'altro sono 10 minuti e 9 secondi Abbastanza di poter fare la pubblicità Senza vergogna Guarda che la pubblicità Visto che hai 160.000 iscritti Dovresti saperlo Da quasi tipo 6 mesi Si può mettere anche sui video Che durano 8 minuti adesso 2 minuti? Di niente Di marchetta Di introduzione infinita Giusto per fare la pubblicità Proprio che non si vede Che è un clickbait del cazzo Ma E anche qui dice la stronzata Le pubblicità si possono mettere anche Sui video che durano 8 minuti Mamma mia Questi sono quelli Che la gente pensa che mi hanno distrutto Cioè questo dovrebbe essere Un grande youtuber Non sa neanche dove può mettere la pubblicità Questi sarebbero i miei avversari Cazzo Quando arriverà un avversario degno? Io non è che posso passare il tempo Andiamo avanti dai Oppostante Che poi secondo me Dire top anime shonen Non ha molto senso Perché shonen è un target Che si applica solamente al manga Dato che i target Vengono definiti Proprio in base alla rivista Su cui i manga Allora lui o parla Per sentito dire O sapendo dimentire O comunque dimostra una grande ignoranza Sebbene Come ho detto anche Nel commento fissato in alto A parte che la recensione Era su manga e anime Manga l'ho detto anche all'inizio del video Era su manga e anime Il titolo era top anime però In realtà la sua contro-argumentazione Corolla all'istante Però volendo prenderla sul buono Come ho già detto Sebbene shonen sia nato Per indicizzare i manga È un termine che è stato Colloquialmente steso da tempo Anche per gli anime Già solo per le trasposizioni Cioè se un manga shonen Solo per le trasposizioni Ma indicativamente Non è L'anime non si chiama shonen L'anime di quel manga Viene definito colloquialmente shonen E gli anime Che non hanno Cosa che poi si è stesa tutte le trasposizioni E cosa che poi si è stesa in generale A quegli anime che comunque Hanno sempre quel target Non più di tipo fumettistico Ma di tipo di animazione Di televisione Quindi lui sa benissimo Che questa è una critica Facinorosa Quindi se doveva essere una correzione La correzione manca Ripeto comunque Non ho mai detto Che quello che lui afferma Sono pubblicati in Giappone Ma vabbè comunque Guardiamo questa top E la commentiamo In realtà la demarcazione Tra shonen e shonen Viene usata anche per la pubblicazione Al di fuori del Giappone Grave errore da parte di Chilo Di nuovo Assolutamente no Non è un errore Perché io non ho detto Che viene usata solo in Giappone Infatti Ma scusa Che video sta sentendo lui Di televisione Quindi lui sa benissimo Che questa è una critica Facinorosa Quindi se doveva essere una correzione La correzione manca Ripeto comunque Non ho mai detto Che quello che lui afferma Sono pubblicati in Giappone Ma vabbè comunque Guardiamo questa top E la commentiamo In realtà la demarcazione Tra shonen e shonen Viene usata anche per la pubblicazione Al di fuori del Giappone Grave errore da parte di Chilo Di nuovo questa gente Che fa il video contro di me Non l'ha Ma dove ho mai detto Che non viene usata Fuori dal Giappone Ma È schizzato totalmente Non l'ha detto Da nessuna parte Conosci il mondo Dell'industria dell'animazione Però vabbè Ne parliamo Te ci posso fare scuola Quando vuoi Cioè io Veramente Ti mangio a colazione Per quanto riguarda La conoscenza Dei manga Sicuramente Degli anime Forse non lo so Ma dei manga Proprio di sicuro Non sta dicendo come ne ha parlato Potete immaginare Non vi dico niente Però potete immaginare da soli Sempre perché io non avevo ragione Di bannarlo ragazzi Sempre perché io non avevo ragione Di bannarlo Lui non si è comportato In maniera molto Noto consona Diciamo nei miei confronti Ma io devo stare zitto E non bannarlo mai A un certo punto Decido di lasciare un commentino Quando sento una cosa Che per me è inammissibile Ovvero quando morte bianca Mette in questa top shonen Infatti il video si chiama Top migliori anime shonen Ah aspettate Aspetta Prima che mi dimentico Queste sono le prove Di morte bianca Aspettate un attimo Che sono sotto al video La prima immagine Allora La prima immagine è questa Dove pubblica uno Uno screen del mio video Con scritto Dove ha messo la freccia Su 14 ottobre Non ho capito il senso E poi La seconda Prova Che abbiamo già smentito prima E' quest'altra Dove lui fa vedere Che il commento ancora c'è Però Nella sua prova Questi commenti Si fermano Praticamente Dove lui Dice Aspetta che devo togliere Sta cosa sotto Se no non si vede Dove lui dice Dove lui risponde Shonen Jump Alpha Infatti Come abbiamo visto Prima Come abbiamo visto Prima Dove ho smentito Completamente I messaggi Che lui aveva cancellato E di cui io discuto Nel video Erano tutti Dopo A questo qui Quindi 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 E' parte che forse Manca anche il mio commento Aspetta No il mio commento Dal suo E' sotto Era sotto Cioè manca Perché lui Giustamente Ha fatto lo screen Di quello Dove Dove manca Esatto Si è inculato Da solo Cioè Che prova è Il mio commento Non c'è Quello che stavo contestando Che mi ha cancellato Quindi Notare come sta lì A mettere i dislike A tutti i commenti Va bene Ah è vero Manca Il mio commento Dove chiedo Quale rivista E' fantastico Lo stiamo Sbugiardando Su qualsiasi cosa Oddio Oddio Manca il mio commento Dove gli chiedevo La rivista Oddio Quando Dag Mi diceva Peccato che One Punch Mani Si era stato pubblicato Su Shonen Su Sia come Shonen Che come Seinen E io gli chiedevo Ah si Su quale rivista Su quale rivista Shonen era pubblicato Manca quel commento Quindi Si è sputtanato Da solo Oddio Eccezionale Si è sputtanato Da solo C'era il mio commento Sopra Shonen Jump Alpha E io Gli ho dimostrato Prima che non l'ho Cancellato Il mio commento E' ancora lì Se ci vado Dal mio account Quindi l'ha tolto lui C'è assurdo E ci ha fatto Poi lo screen L'ha messo come prova Questa cosa E' un capolavoro Ragazzi E' un capolavoro E' stato sbugiardato Su qualsiasi cosa Cioè E' stato sbugiardato Su qualsiasi cosa Mamma mia Vi giuro che mi sta Quasi Quasi Facendo tristezza Ora Ora Mi sta Quasi Facendo tristezza Ve lo giuro Mamma mia E se tu avessi ascoltato Il video per intero Invece di commentare A cazzo di cane Avresti saputo Che ho già risposto A questa obiezione Partendo dal presunto L'obiezione non ha senso Ma non è quello Di cui stiamo parlando Posto che questa Era una top Ed è una top Soggettiva Quindi non penso Di avere una verità in tasca Quindi non penso Che chi non la pensa Come me sta sbagliando La top è soggettiva Sui gusti Di quello che metti Nella top Non sui target Che non puoi stabilire Ok E' una mia Live soggettiva In cui io dico I miei anime soggettivi Io ho spiegato Come mai Non sono d'accordo Con questa cosa Perché trovo controversa La demarcazione Che viene fatta Shonen di seinen Cioè ho visto Molti manga Che vengono classificati Come shonen E invece secondo me Sarebbe più appropriati Come seinen Ho visto molti seinen Che sono classificati Come seinen E invece non mi pare Come shonen Ok Quindi avevo risposto A questa cosa Ho detto Secondo me One Punch Man Sarebbe più appropriato Come shonen Piuttosto che come seinen Anche Sommobuta Ha messo One Punch Man Nella sua top tier Dei shonen Ha detto che erano Strappa la regola Ma a lui In questo video Aspetta Voglio vedere Che dovrebbe esserci A parte tutte le offese A me Che non andiamo neanche A vedere Perché a me Non mi toccano Nemmeno Di striscio Dovrebbe esserci Il messaggio Di Sommobuta Eccolo Eccolo Aspetta Spero che lo vediate Allora Aspetta 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 Algo direttamente La mia faccia Da qui Così Perché lo devo Un attimo Rimpicciolire Porca tre Allora Sommobuta Dice Premessa Ho visto il video Della top C'erano imprecisioni Sì Ma è un video Personale Una classifica Soggettiva Che aveva lo scopo Di segnalare 20 mangani Agli altri Quindi va bene Così Doppia premessa Ho visto il video Di Kirio Ammetto che la questione Su Young Jump Alpha Jump Mi ha fatto Ghignare tantissimo La classificazione Di un manga È ciò che conta E quindi Nel caso Specifico One Punch Man È E rimane Seinen Oggettivamente Ho visto che qui si parla An passant Anche di me E a proposito Di One Punch Man E quindi ci tenevo Un attimo A specificare Sì Nella tier Mia Lo avevo messo In Shonen Sottolineando Però Che era Un mio Enorme Strappo Alla regola Perché so Che è Seinen Anche se Fa strano Detto questo Sti cazzi Poi parla Di altro Quindi Cioè Praticamente Sommo Buta Che viene citato Da Morte Bianca Gli ha appena detto Che lui Nonostante L'abbia messo lì È un grandissimo Strappo Alla regola E che sapeva Che è comunque È indiscutibilmente Oggettivamente Dice Sommo Buta Un Seinen E rimane Un Seinen Dove gli hai fatto Il commento Marco Frollani Su questo video Su questo video Qui Eh ma ci sono 3000 commenti Dove lo trovo Il tuo ora Una parola Che ti ha scritto Dici cosa ti ha scritto A parte Non vedo Commenti tuoi Secondo me L'avrà cancellato No Ma lui Non Non mi trova nulla Frollani Come Il dissing Non gliel'hai fatto Nessuno gliel'ha fatto Il dissing Ma non solo io Moltissime persone Anche nei commenti Anche i miei detrattori Gli hanno detto Guarda che su sta cosa Stai esagerando Guarda che effettivamente One Punch Man Come Shonen Non è tutta questa cosa Come dice lui Imperdonabile Questo errore gravissimo Ripeto il nazismo Avessi avvocato il nazismo Una reazione minore Avrei ricevuto l'alimento Ora seguiranno 10.000 video risposte Un po' mancato Le risposte ovviamente Non hanno tanto No Cosa risponde Assummo Non mi interessa Perché tanto Dice le solite cose Di prima Cazzo Deg02 Mi dice L'ha spiegato Proprio nel video Al che io gli rispondo Non c'è niente da spiegare Lo Shonen è un target Non è un'opinione personale Quindi Questa è una cosa Che voglio dire subito Perché molti mi hanno detto Perché non rispondi A questo chiro A questo tizio E gli rispondono Ma cosa devo rispondere Lui non ha argomentato Lui ha detto semplicemente E così e basta E' un dogma E' una setta E' un culto E' così e basta E' così e basta E' se lo neghi Sei in errore E non c'è motivo Di argomentare E così e basta Shonen One Punch Man E' un seinen Ma perché Volete vedere Cosa ha risposto Shonen e seinen Cosa ha risposto Sommo Buta Sì Cosa ha risposto Morte Bianca al Sommo Vediamo Vediamolo Visto che hanno preso Un dettaglio di un video E ci hanno fatto la psicanalisi Cercando di capire Cosa io intendevo dire E non ce l'hanno fatto Ancora per un cazzo Shonen e seinen Sono dei target Cioè Gli autori Decidono Colloquialmente Se un manga O un anime In questo caso Gli autori Insieme alla rivista Se è indirizzato Ad una certa fascia d'età Se seinen Ad una certa Altra fascia d'età Più grande Più adulti Più giovani Stante il presupposto Come ho detto Vediamo cosa ha risposto Sommo Buta Allora Gli ha detto Gli ha risposto Eppur si muove Oggettivamente Come ho detto E' una questione linguistica Aspetta Lo state vedendo Come ho detto E' una questione linguistica Che non arriva mai A tal livello Di precisione Ovunque cerchi Shonen Non viene classificato Come manga Pubblicato per la prima volta In una rivista giapponese Shonen Che non è quello Che ho detto Vabbè Ripeto che comunque Parlare di oggettivamente Sull'ermeneutica Di termini stranieri Mi fa senso E' seinen Oppure Tu stesso Lo metti come shonen Eppure Tu stesso Lo metti come shonen L'oggettività Non ammette eccezioni Eppur Si muove Nella tua top Ma Ma Questa idiosincrasia È secondo me Più di un mero istinto Seggettivo Ma ben motivata Te l'ho appoggiata Pure io Ecco Cioè Questo bel cazzo Da per dire Che aveva ragione In pratica Che io Che chiunque Vede il cazzo Che vuole Shonen è indicato Ad una certa età Ma se se lo vedono I più piccoli Di quell'età O se se lo vedono I più grandi Va benissimo Non è un diviatone In realtà i minori E un seinen È indicato ad una certa età Ma se se lo vedono Quelli più piccoli Se se lo vedono più grandi Va benissimo Non è un demerito Non è che seinen è meglio E shonen è peggio Come qualcuno Qualche pagina di pensante Ha accusato di fare Ok Io mi sono detto In disaccordo Con questa classificazione Cioè se shonen è Quest'opera Qui ce l'aveva con anime click Perché anche loro Ovviamente Li sono andati contro Preferibilmente consigliata Anche per la vita A quel target Io personalmente Penso che sia preoccupiata Ad un altro target Quindi dire Non c'è niente da spiegare Non è un'opinione personale È una contraddizione Io posso essere in disaccordo Con un'editoria Devo essere in disaccordo Con un'editoria No non puoi Non è un'argomentazione Dire è così e basta Non c'è niente da spiegare È un dogma È una verità Se qualcuno dice Quel tavolo è di legno E il tavolo è di legno Non puoi essere in disaccordo Puoi esserlo Però venendo trattato Di conseguenza Come uno che Sta dicendo Che è un tavolo di legno È in plexiglass Stessa cosa Se dice che Uno shonen È un seinen Uguale Assoluta Una religione Anzi no Perché le ritorno Certo di dimostrare Grazie mille Brandish Per il follow Questo deg02 Dimostrando di essere Abbastanza ignorante Quindi insulta pure i miei iscritti Ma io non lo posso bannare Lo usare zitto E subire Zitto Invece no Quindi insulta Mi hai bannato prima Evidentemente Che poi boh I miei iscritti Perché gli fanno notare Un errore molto banale Nel suo ragionamento E lui gli insulta Non c'è nessun errore Nel mio ragionamento Grazie mille Jodem98 Manco gli rispondi Gli insulta Veramente vergognoso Quanti anni c'ha questo Vabbè Però sicuramente Non conoscendo il mio canale E non gli fa Kidio 1984 Basta fare due calcoli Non è che ci vuole Hegel Per capire quanti anni ho Faccio una colpa Per questo Dato che sono un signor nessuno Ma basta Su questo siamo tutti d'accordo Però dopo questo video Oh goddio Come ha dovuto rimarcare Che lui c'ha Il cazzo grosso E io no Che sofferenza Nel mio cuoricino Morte bianca Che tu c'hai gli iscritti E io no Da domani farò I video Disinformativi Così magari li faccio anch'io Sei fatta la tua fama Complimenti Vabbè aprirlo il mio canale E vedere qui Ah ora Se domani arrivo a 50.000 iscritti E grazie a morte bianca Mi mandano il silver button Con scritto Thank you morte bianca For the silver button Io me ne intendo Ah l'appello all'autorità Bastava aprirlo il mio canale E capire che io me ne intendo E quindi non devi dibatterci con me Bastava aprirlo il mio canale E vedi che me ne intendo E quindi ho ragione io Io sono uno che ha visto tanti fumetti E quindi non posso sbagliare Ha visto tanti fumetti Vabbè Ah Non ho detto che non posso sbagliare Assolutamente Non posso sbagliare Sui target Che sono stabiliti E che Lo sa chiunque Come Anche Dario Moccia Ad esempio Che l'ha detto anche sul suo canale Ah Vedi la setta No zio Io l'ho visto in molti tuoi video Francamente mi sembri una persona Da una conoscenza superficiale Del mondo dei manga E sono liberissimo di contestarti E Deg Ha fatto benissimo a contestarti Sì 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 Bravo Deg Hai evidenziato un errore E non ti sei anzi fatto Bravo Deg Bravo Hai evidenziato un errore Che non c'è Bravo Deg Ho frenato da questa tecnica Anche un po' subito A dire ma guarda Io ho tanti iscritti Ho fatto tante recensioni Quindi io ne so E allora E allora Puoi sbagliare Ragazzi che argomentazione era Che argomentazione era Cioè insulta il mio scritto Definisce ignorante E poi dal nulla Tira in ballo che lui è preparato Per dire cosa Se hai un'argomentazione Non ce l'ha Perché come ha detto Non c'è niente da spiegare È una verità ragazzi Sta lì nel sole Sta lì Ragazzi vi informo che siamo a tre minuti Quindi siamo a un terzo del video Oh che è sta Sta roba Non si può vedere su Twitch La gnocca Dai Prometto Che non farò più video risposta Non ci crede nessuno Mi impegnerò Finché di non fare più video risposta A sti Sti Canali Insultami Insultami Però ragazzi capite bene Che quando la gente Depensa nei commenti Il blastaggio Lo schiaffo ci sta Mi dice Tu non sai nemmeno Aspettate un attimo Aspettate un secondino Aspettate Rimettiamo Questa clip di Dario Oh ma perché va via l'audio Cazzo Lo sentite? Non è un genere Ma essendo solamente un target Di alcune riviste a fumetti Che pubblicano Fumetti shonen Ovvero per ragazzi Non con le spade Non con l'onda energetica Non con i buchi di culo Ma per ragazzi Non ha senso Non ha senso Ok Shonen è un target È il target Delle riviste a fumetti Quindi dire anime shonen Quindi dire anime shonen È una puttanata Una puttanata colossale Ok? Perché non è Non essendo un genere Ma essendo solamente un target Di alcune riviste a fumetti Che pubblicano Fumetti shonen Ovvero per ragazzi Non con le spade Non con l'onda energetica E non con i buchi di culo Ma per ragazzi Non ha senso Ciao Bruna Non ha senso È un conoscitore Superficiale Di manga Dato che ha detto Che il target È quello E non si può cambiare È morte bianca Che dici? Ah Che cazzo Aspetta Che mi ha mandato Un link riro Che cazzo C'è stato chat Ma troppo veloce Stasera Non sono abituato C'è carino A parte le scherze Ma dove 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 Aspetta Che il commento Di Dario Cerchiamo Poi Ah Se lo sapevo Che c'era qui Non lo facevo Vedere dal telefono Cazza roda Il giorno seguente Presso Ponte d'Era Aspetta Che questa È interessante Grande riro Allora Vediamo Fusi Pure la canna È il secondo miglior shonen Il primo vuole Va bene Va bene Mi tocca sentire Ragazzi Ah è un meme Sì ragazzi Allora Potete per piacere smetterla Io No devo star zitto Devo star zitto Devo star zitto Sennò poi Vedi vedi Si triggera No non è per il trigger Perché poi Sennò Poi la gente Se ne approfitta Ok non sto capendo No mi porta una sega Ragazzi allora Accostare anime E shonen È una stronzata No Ok Perché shonen Non è un genere Shonen È un target È il target Delle riviste A fumetti Quindi dire anime Shonen È una puttanata No Una puttanata colossale Ok Perché non è Non essendo un genere Ma essendo solamente Un target Di alcune riviste A fumetti Che pubblicano Fumetti shonen Ovvero per ragazzi Non con le spade Non con l'onda energetica E non con i buchi di culo Ma per ragazzi Non ha senso Non ha senso Ok Non esiste L'anime shonen È proprio un paradosso Però sto notando Che ci sono tante Linee di pensiero No non ci sono Le linee di pensiero Esistono solo i fatti I fatti sono questi Cioè Lo shonen È un target Quello che dici te Si chiama semplicemente Battle shonen Cioè Uno shonen Di combattimento Di azione Esatto Non c'entra nulla Shonen vuol dire ragazzo Ok E viene Si indicano le riviste shonen Infatti shonen jump È una rivista Per ragazzi Di manga per ragazzi Ma dentro c'è anche roba Investigativa Ci sono commedie Ci sono action C'è di tutto Tipo quando io sento dire Eh ma L'attacco dei giganti Come godo Perché è proprio È proprio un bel seinen Con quelle sue Tematiche da seinen E io faccio Ma che cazzo dici A parte che l'attacco Di giganti È uno shonen Cioè È pubblicato Su una rivista Per ragazzi Esatto Ma non sono le tematiche A fare un target Esatto Cristo di un dio E nell'animazione C'è solo il genere Non c'è il target Cioè Nell'animazione C'è il genere È una commedia È una commedia Il porno L'azione E queste strazzatevi Cristo non confondete Le due cose Anche perché ora Questa Questo falso storico Sta facendo dire Alla gente Appunto Che gli anime Possano avere Possano essere Shonen O seinen Minchia Belli Belli Gli anime pubblicati Su rivista Non sapevo Esistessero Ci sono gli anime comics Effettivamente Però È un altro discorso Quello Fine Direi che ci sta benissimo Fine Alla fine No Ha detto tutto Perfettamente Questo Intanto me lo guardo Do Ehi Le cazzo Stai lì Ha detto tutto Vediamoci un altro po' Di questo video Ma si potrebbe chiudere Vabbè Inizione di Shonen Al che io rispondo Ovviamente con una grossa risata E dicendogli Pubblicato sulla rivista Lo voglio vedere tutto Solamente perché Se no poi Dice che Ora lo metto a Lo metto a 2x Se no poi dice Che l'ho saltato E quindi ho tagliato qualcosa Non voglio Siccome non voglio più Tornare sull'argomento Visto che questa live È definitiva Deg Non ti sta Allora parte che Ripeto Dire io sono una persona Che se n'intende Non sei qui Tur Non posso sbagliare Su un certo tema Quindi se lui dice Tu non sei neanche La definizione di Shonen Rispondere io sono uno Che se n'intende di manga Non è una risposta valida Error di ragionamento La gente mi accuserà Che sto facendo giochi Retorici Sofismi Ah Riro Metti anche il link del canale Dove pubblichi la roba Così chi vuole si può iscrivere Dove ci sono un po' di Fributaggi vari Perché la logica Quanto pare è stata ridotta Ad un gioco linguistico Poveri noi Poveri noi veramente Così i canali come Chiro Crescono Secondo voi come possibile Certo Ed Egg puntualmente gli risponde E arriva la mazzetta E metto la parola definizione Tra virgolette Proprio perché Morte Bianca nel suo video Aveva lanciato tutta questa Solita supercazzola Cosa supercazzola? Io ho argomentato Eeeh Non puoi dire che sbaglio O puoi dire che dico una cosa giusta Ma dire che è una supercazzola È empiricamente falsa E' anche un'offesa Ripeto Sempre perché lui è stato civile È un'offesa Ma dove ne vede le offese questo? La supercazzola A parte che considerando L'allevatura del video Dubito che questa persona sappia Cosa è veramente una supercazzola Con scattamento a destra comunque Ricordando che comunque La definizione non è quella che dice lui Cioè lui dice che shonen Significa pubblicato in una rivista Invece shonen significa soltanto Manga indirizzato a giovani e adolescenti La rivista La democrazia della rivista È una cosa che sta avvenendo lui Ma ripeto Deg da una contro argomentazione Anche prendendo per buono Quindi sbaglia anche il Dario Moccia Che hai tanto leccato fino a ora Quello che dice lui Sbaglia comunque Ma lui sta facendo un errore Non è vero Shonen è manga indirizzato Ad un certo target Non è questione di rivista Ma mettendola sulla rivista Sbaglia comunque Perché? Nei tre video che ho visto Sul fatto che comunque La definizione di shonen È una cosa che lui Dà diversamente Io non ho detto Mi sta mistificando Io non ho detto queste Ho dato delle definizioni Ben precise Delle argomentazioni La definizione è ovviamente Indiscutibile Divinità Ripeto È una religione No ripeto È una setta È una cazzo di setta È indiscutibile Indiscutibile ragazzine Madonna santa Lo ripeto Che è indiscutibile Siamo tornati a quelli Veli cancerogeni Della community di annicubers Che setta delle barriere Che non puoi toccare One Piece è perfetto Indiscutibile Anime sono fatti in Giappone Indiscutibile Ma ci sono degli errori Non è possibile Ma allora sei una persona Indiscutibile Shonen è fa Ma è veramente indiscutibile Una setta Una setta E ripeto Indiscutibile Significa che non puoi discutere Senta come se la prende Infatti non si può discutere il target Non puoi argomentare Quindi Kiryu mi vuole togliere La libertà di argomentare A me Sul mio canale Mando sul mio Proprio si lamenta Che lo vanno Una persona di genere Le altre persone danno E cose del genere Tutte le altre persone Io non sono una persona No Kiryu spiega me questa cosa Cioè io non sono d'accordo Non sono una persona Tutte le altre persone E le tutte Kiryu Guardami Guardami Non hai immagini Fai finta di guardarmi Eh No questa discussione è a come Tanto che sommobuta Pure lui ha messo una pancia Ma tanti altri lo considerano Shonen Quindi non è indiscutibile Sommobuta ti ha risposto infatti È discussa Grazie Perino Brunelli Per definizione indiscutibile Cosa che non è discusso O non può venire discusso E empiricamente abbiamo dimostrato Che invece è discusso Questo non può essere discusso Grazie al narratore Per il follow Per il follow Tipo il fatto che La definizione di Shonen Sarebbe quello di manga Che può leggere un ragazzo Fino ai 18 anni Cose allucinanti Sento che è un target preferenziale Ho detto che chiunque può leggere Quello che vuole Cose allucinanti La sceneggiata Cioè uno potrebbe fare Le argomentazioni dirette No ha detto questa cosa Penso che sia sbagliata O è sbagliata No allucinante Disinformato Spettacolo Non è argomentazione È spettacolo Grazie Mi hai dato dell'entertainer Certamente Nessuno è immune Chiaramente Ripeto Il tizio che non meritava il ban Poi parliamo delle altre cose che ha fatto Ah quindi non conta No Non conta Esatto Come ti ha fatto Capire Diavol Che la Goen Ha messo Dentro Mari Come un Come di Shonen Quando in realtà È un seinen No Non conta Esatto Non conta Non conta Quindi siamo passati dal manga indirizzato È un target Per gli adolescenti Prima definizione che lui ha dato Poi è in quale rivista viene pubblicato E quando gli faccio notare Ma guarda che in altre riviste È stato pubblicato così Ah no Allora dipende dalla rivista giapponese In cui viene pubblicato Potete andare a cercare dappertutto Sulle enciclopedia Potete andare a cercare su Wikipedia Non viene a fatto detta Tutta questa cosa Cioè manga è In quale rivista giapponese è stato pubblicato E non esiste questa cosa La sta inventando lui E penso sempre che non è discutibile La sto inventando io E Dario E Sommo Buta E tutti quelli che l'hanno detto Ha fatto tre definizioni diverse Sempre che non è discutibile Ripeto È una cosa ridicola Io lo riconfermo Quello che ho detto Sarebbe Shonen Sarebbe Seinen Perché è pubblicato in una rivista Seinen Ma è pubblicato in una rivista Shonen Quindi come funziona Diventa Shonen all'estero Cioè all'estero diventa meno maturo Contradizione Il manga è sempre lo stesso Contradizione Oppure Oppure online Online diventa All'estero non sono i suoi autori Non sono i suoi editori Principali Quindi sbagliano In alcuni casi Come in questo Grazie mille Gianluca Rosso No perché Se fosse stato pubblicato online In Giappone Su una rivista Shonen Allora sì Siccome è in America Dove non conta un cazzo Esatto Siamo a quasi metà del video Il nulla cosmico E finora Argomentazioni per dire che sono un clown Dai che a due per Ce la stiamo facendo bene No Che finora al massimo Mi potrebbe dire Porta Bianca Ha una definizione discutibile di Shonen Da qui a giudicare un'intera persona E proclamare la clown Ce ne vuole secondo me Ma ripeto L'onestà intellettuale Ognuno ha i suoi esami di coscienza Shonen Jump Alpha È una rivista online Pubblicata E quindi non conta? Viz Una casa editrice americana E quindi non conta? No E quindi è sempre molto pacatamente di rispondo Ma che c'entra scusa Porta Bianca Shonen Jump Alpha È una rivista americana Anche diversi editori italiani Indicano il target In modo totalmente rango Questa è un'affermazione che non può dimostrare Lui afferma che il target è deciso a caso Senza cura Che No che è deciso diversamente Da quello che è davvero in origine E ti faccio gli esempi nel video Abbastanza discutibile Ma ripeto Mi deve spiegare perché il target giapponese Sarebbe intrinsecamente superiore E l'unico che la può seccare correttamente Supponiamo che l'editore cambia idea Per esempio Che si fa? Che si fa? Verità indiscutibile Stiamo parlando di target editoriali Verità indiscutibile Sai cos'è indiscutibile? Chissà se 2 più 2 fa 4 Ma Secondo me forse no Parlando a livello hegeliano Non sono tanto sicuro Ah lui non offende però Ma non avete un cazzo di meglio da fare Scusate lo sfogo ma è così Poi traggono la cosa per fare il flame Per mandare la gente Per fare il video contro Molto bene anche un clown Ma non vi vergognate Ma ce ne avete contenuti seri sul vostro canale Invece vi venire a romper i coglioni la gente che lavora Scusate ma è così Ovviamente cosa? Argomenta Dando una dimostrazione Non me la sai dare? Zitto Argomenta Non sai argomentare? Zitto Su quale di vista giapponese è pubblicata l'opera E infatti abbiamo tantissimi esempi di manga pubblicati in Italia Con un target completamente sballato rispetto a quello vero giapponese Fire Punch Che viene pubblicato come seinen Quando in realtà è uno shonen Doraemon Che viene pubblicato come shonen Quando in realtà è un kodomo Il poema del vento e degli alberi Che viene pubblicato come seinen Sì credo nessuna di queste è un'argomentazione Sono tutte argomentazioni Sono fatti Non sono argomentazioni Sono fatti Fattuali O ancora Verso la terra Probabilmente ho nominato tutti i manga Che non ha mai sentito Per questo è rimasto un attimo in silenzio Potrebbero essere decine e decine E quindi cosa vuol dire? Che se ogni casa editrice nel mondo Assegna un target diverso sbagliando Dimostrami perché sbagliano Dimostrami L'unica cosa che metto Che i giapponesi pensano diversamente Cosa sono superiori? Ah Ah sono superiori i giapponesi Siccome prima si parla Di cittadini serie di serie B Mi sembra talmente ovvio Non c'è neanche bisogno di dimostrarlo La verità oggettiva per lui Non è una raccomentazione Ho capito Sicuramente intendere altro Ora ce la smentirà questa tesi Non è una raccomentazione Non è una raccomentazione Sì l'abbiamo capito Quindi abbiamo dimostrato Che avevo ragione io Cioè che non basta che sia in una rivista Per dargli un target Perché tante riviste Danno definizioni diverse E No a parte che si stava parlando Diavolo stava parlando Dell'edizione italiana Di Dentro Mare Non di una rivista Se diamo credito anche alla Goen Siamo ovviamente alla frutta E ci siamo probabilmente Il fatto che la rivista giapponese Sia l'unica superiore Mi devo dimostrare perché Non è superiore È semplicemente la rivista Su cui viene pubblicato Quindi è quello Ma perché? Ma perché? Basta Non ho più voglia Spero a questo punto E qui Mortedianca Fa la mossa più ignorante possibile In assoluto Lasciandomi totalmente di sasso Di stucco Non capendo se stesse trollando Se facesse sul serio O se fosse davvero convinto Delle sciocchezze Ora si incazza Di che stava dicendo Zero argomentazioni Però mi afferma di fare sciocchezze Afferma che sto dicendo sciocchezze Una presunzione veramente Risponde Quindi fammi capire Contano alcune riviste e non altre? La scelta editoriale va bene Finché conviene a te? Sì è una domanda seria Spiegami perché Posso fare domande? È ancora Permesso? Oppure in questo sigail Non è più concesso Sono io quello che mi dava In questa espressione Ma che stesse C'è come hai Marco? Eh? Questi sono i miei avversari Eh? Disinformatore Dio santo La faccia che sta facendo In questo momento ragazzi Ma perché poi pensa Che io sia un avversario? Scusa Perché la prende così Sul personale? Io parlavo solamente Del suo personaggio Del suo video Avversario Ma cioè Davvero? Stai tranquillo Morte bianca Non è successo a noi È incommentabile Siamo a 727 Morte bianca clown Argomentazioni zero È così e basta È indiscutibile È disinformatore I suoi avversari Indiscutibile Indubitabile Deterno Mi vado a mettere a venerare Se vuoi Mi vado a mettere a venerare Perché questo è un dogma Non posso mettere in discussione Non posso essere d'accordo Non posso essere in disaccordo Scusatemi con il target Non posso pensare che il chitore Avano sbagliato Vergognoso Vergognoso Limitare la libertà di espressione degli altri in questo modo Chiunque Che l'unica che conta È la rivista di pubblicazione giapponese Perché? Argomenta E infatti io gli rispondo Ancora molto pacatamente Ma abbastanza scioccato Dicendogli ma stai dicendo seriamente? Contra la rivista giapponese Su cui è pubblicato Non è che se Di nuovo zero argomentazioni E domani un editore polacco Dice che Death Note È un romanzo Harmony Allora diventa sia shonen Che il romanzo Harmony Scrivendogli sotto un'altra cosa In un ps Ma il mio commento cancellato? Sì perché la cosa che più Mi ha fatto incazzare Non è stato il fatto di tutti questi errori Ora ci arriviamo a questa parte Di una disonestà incredibile Ma come si fa a mentire così bruttamente? Ora ci arriviamo eh Non ci possono stare Ognuno può avere la sua opinione No no non la possiamo avere la sua opinione È una verità indiscutibile E quello che ho detto è inaccettabile Ma che è? Quindi io evidentemente Sono uno scelto di criminale terrorista L'hai detto tu L'hai detto tu L'hai detto lui L'hai detto tu L'hai detto lui Seppur sbagliata come nel caso di morte bianca Vai a cagare va Ma perché mi offende ancora? Ma ti ho lasciato niente? Quali fatti? Ha detto così e basta I giapponese avrò ne basta Quali fatti? Dato che il target Non si può decidere In base ai propri sentimenti Cleopatra è una donna Che ha cambiato la storia È una donna moderna Proiettata nell'antichità Allatta un f***o Io non ho detto questo Vabbè Siamo alla mistificazione più pura Prossimo Dai che siamo quasi alla fine Falso Prima falsità Lui ha fermato a cancellare i miei commenti Non è vero Io l'ho bannato Ed un commento è stato scurato Perché è quello della causa del ban I suoi commenti sono ancora lì E li potete andare a vedere tutti quanti E lì in descrizione Se lo cancello gli Aspetta aspetta Ora mettiamo un attimo A riproduzione normale Perché Scrinciotto i testimoni Azzarate da fare una minchata simile Provaci Abbiamo già dimostrato Tutti gli screenshot Anche quello tuo Anche quello tuo Abbiamo dimostrato Che il commento è stato nascosto Che nel tuo screenshot non c'è E se c'entro io c'è Dimostrazione fattuale O i testimoni I commenti I testimoni Sono lì Perché ha mentito? Perché ha mentito? Prima falsità Quindi Ripeto Perché ha mentito? Questo l'abbiamo già dimostrato prima Quindi non c'è bisogno di tornarci Che ha dovuto mentire? Poteva dire Mortebianca mi ha bannato E ha rimosso un commento E invece ha detto Che gli ho rimosso i commenti Che gli ho scorto i commenti I commenti sono tutti lì È ancora visibile Alla sua obiezione E il suo difensore È ancora lì Non è vero Il mio difensore Che sarebbe Diavol Anche lui è stato bannato E l'abbiamo visto prima Infatti che il suo commento Non c'è Sempre perché io sono uno Che ha paura delle opinioni E allora perché non l'ho cancellato? Rispondimi Kirio Perché non ti ho cancellato? Se ho paura di te Cazzo mi devi fare Paura di me Non l'ho mai detto Paura Cioè mi fai paura Ma per altri motivi Mi fai paura perché La tua disonestà È disarmante Eh sì sì La mia proprio Siamo a otto minuti Mancano meno di due minuti Alla fine del video Dimostravano il fatto Che stesse dicendo Una sciocchetta Dimostravano Non c'è alcuna dimostrazione Ha detto È indiscutibile Non ha dato nessuna dimostrazione E lo è Dimostravano Ma vai a fare in culo Kirio Come potete vedere Ma mi ha dato a fare in culo Mille volte Ormai Cioè veramente Ora ci arriviamo a questa cosa Ora ci arriviamo Dove ci sono i commenti precedenti E quelli successivi Ma non ci sono più I miei commenti Io spero che ci sia anche Qualche fan di Morte Bianca Adesso in live Che sta avvenendo Come abbiamo Smontato Pezzo per pezzo Qualsiasi cosa Abbia detto Sono lì Non è vero Sono lì Quindi mi chiedo Come fa Uno come Morte Bianca Che si professa Essere Un grande Filosofo Ma hai detto Ma Questa persona Nel mentire così spudoratamente E nell'esagerarmi In maniera così plateale Ma non ti attaccare a tutto Perché ti attacchi così a tutto Guarda allo specchio la mattina E dice Sono fiero di me stesso Cazzo Ma secondo voi Io posso rispondere A gente di questo calibro Ogni volta che mi fanno Un video contro Stai facendo Sì Stando ad alcune richieste Ci sono gli ultimi dieci minuti Ragazzi Ci siamo Mi sono arrivati Sì Mi devo obbligare A scendere a questo livello Ma si può ragazzi Tutta retorica È questo video Ma morto Tutta A parte che Dieci minuti Li poteva riassumere in due secondi Ma bannato Questo è lo scrincio E lo Cioè Quando lui ha fatto Un'ora e quattro Per dire Tre cazzate Lo squartavo comunque Di una retorica incredibile Ma È lento Proprio per raggiungere Dieci minuti E fare le big views Ma morto Bianca Che è uno Che si proclama Un grande Filosofo Immutabile Parlo proprio così Proprio di un melenzo Che usa tutti questi Grandi paroloni Non sono grandi paroloni Sono termini filosofici Che servono per far passare Un concetto Che è estremamente complicato Non scelgo di usare termini aulici Quello è cannarsi Quello forse sei tu In effetti È proprio io che lo adoro Comprendo che la filosofia Non è per tutti E da quello che vedo Non è per te Come i trops E altre amenità varie Non è un'amenità Il trops Sto facendo ironia Caro morte bianca Lo so che trops È corretto Non so se riesci A renderti conto Che sto dicendo Che lo usi In maniera Giusto per farti vedere Vabbè Lascia stare Dai Trops è un concetto Molto ben definito E utile Come fa poi Un filosofo Come te A non accettare Il minimo Livello Di discussione Pacifica Ah pacifica Il clown Giusto Tu sei Questa è la pacifica Com'era la belligerante Suppongo Mi viene a casa mia E mi uccidi Suppongo Questa è la pacifica Giusto Il dire Indiscutibile È indiscutibile Ma stai serio Grazie mille Alex Dash Razer Siculus Raffaelevic Di Big Granded Morgolias Ma c'è stato un ride Eh infatti sì Il Sommo Buta Ha fatto un ride Con 70 spettatori Grazie mille Carissimo Like Des 91 Levi God Abre Magica Al Coroformio Morgolias Di Big Granded Alex Dash L'ho già detto Siculus Grazie mille Sommo Abbiamo nominato Anche te Prima Per forza di cose Perché Vabbè Per le Per le sciocchezze Che ha detto Grazie mille Angelo E la pacifica Ma ora ci torniamo Su questa cosa Mi diverto Nessuno ti aveva offeso Nessuno ti aveva scritto Delle ingiure Senti come batte Su quelle Niente del genere Eh infatti Quelle le hai fatte dopo Ah scusate Che sta cercando Che sono stati cancellati A me E non solo Perché un altro utente Come vedete da questo screen È stato poi Bannato dal suo canale Solamente per avergli Riportato le stesse cose Esatto Il buon diavol Free diavol Un piccolissimo canale Di neanche 10.000 iscritti E lui Un enorme canale Da 160.000 iscritti Non so se 160.000 valga Per dire grosso Ma ok Beh io mi accontenterei Beh io mi accontenterei Sinceramente Di 160.000 Comunque grazie mille Lo Sparvier 3 Che si è abbonato Con Prime Per il secondo mese Grazie tesoro Grazie Io mi accontenterei Di 160.000 E andrebbero bene Anche 100.000 Se vuoi fare A cambio Ciao E benvenuto Omeomorfismo Grazie per il follow Ma di sicuro Una cosa è certa Ora si triggera Dignità Non si conta Con i numeri E su questo Hai ragionissima E te ne intendi Parecchio di dignità perduta Grazie mille Banaktarski Quando vuoi Io sono sempre aperto Ad un confronto Su questa questione Sì sì Lo vedo Mortebianca è un clown Sì Vedo un grande confronto costruttivo E delle grandi argomentazioni Se le pensavo va male Per questo L'ha avuta La sua occasione Di argomentare E aveva detto Che è indiscutibile Questa è la grande argomentazione E qualsiasi altra questione Tu voglia Sì sì Se vuoi posso insegnarti Molto degli anime Te lo posso fare tranquillamente A questo punto Voi non lo vedete Ma potete andare a vedere Il video se non mi credete Kirio Mostra una slideshow Di una serie Di leggi italiane E di Leggi italiane Sì che ho messo Per Riferite Alla mia ironia E alla mia libertà Di fare questo video Perché da nessuna parte È scritto Che lo sto dicendo Per te E se vai a vedere Altri video Te li posso dire Quali sono io L'avevo già fatto Su alcuni video Un pochino più Infiammati Ora non mi ricordo Magari su quelli Contro Alcune scelte Della planet manga Quelli Su cannarsi Avevo già fatto Questa cosa Di metterci La descrizione Del diritto Alla satira E queste cose qui Quindi Non l'ho fatto Riferito a te Ma al mio video Dice sostanzialmente In Italia Il diritto di satire Riconosciuto come Diritto soggettivo Di rilevanza costituzionale Poiché rientra Nell'ambito Della Grazie per l'ost Sciorico La libertà Di espressione Di pensiero Eccetera Inizia a farle scorrere Molto velocemente Dando grande difficoltà Nel leggere Tra l'altro Cosa che non reputo Molto corretta Una definizione Di libertà Nella manifestazione Di pensiero Mortebianca Puoi mettere in pausa Per leggerle Non lo trovo corretto Vabbè Quindi fondamentalmente Lui si mette Dopo avermi fatto un video In cui critica Il mio averlo bannato A mostrare Il video è finito Deo grazias È finito il pensaggio A mostrare delle leggi Questo è delle leggi Che tutelano La libertà d'espressione E ritorniamo Al parlare Con i totali Trimuti prima Questo è altamente Disonesto Allora io non so Se Kiryu qui Sta mentendo Sapendo di mentire Ma su cosa O se sta parlando Di un ambito legale In cui è palesemente ignorante E anche in quel caso sbaglia Perché sta parlando Di un ambito in cui Ignorante ne parla comunque Quindi fa disinformazione In entrambi i casi Questo è molto grave Sia che stia mentendo Sapendo di mentire Sia che faccia disinformazione Perché il diritto Della libertà d'espressione Che è un diritto sacrosanto Sancito dalla legge Si occupa Del fatto che È riferito a me Quindi Era riferito al mio video Quindi possiamo saltare Sto pezzo Perché veramente Questa è una cosa Veramente Non è riferito a te Onesta Ok Se lui a casa mia Mi dice a morte banca Sei un coglione Lo butto fuori di casa Non ho capito Dove lui sta pensando Che fosse riferito a lui Dove è scritta questa cosa Lui non può appellarsi Alla libertà d'espressione La libertà d'espressione Afferma che lui Sul suo pubblico Sulla piazza pubblica Lui a casa sua Può dire quello che vuole Nessuno gli può impedire A casa sua E nella piazza Di dire quello che vuole Ma casa mia È casa mia E non rientra Nella tutela della privacy Quindi il fatto che lui Mi accusi Di togliergli Implicitamente Lo fa Mostrando Mi dice Morte bianca Censura E subito dopo mostra Le leggi contro la censura Chissà di chi sta parlando Mi sa che ci siamo OXO E non facciamo finta di niente Significa accusarmi Di aver commesso Un reato Un reato che non ho commesso Non ti ho accusato di nulla Non c'è scritto da nessuna parte Che il disclaimer Che ho messo alla fine Fosse riferito a te Perché è riferito al mio video Come ho appena detto Dove faccio dei Quando faccio dei video Più Che non sono recensioni O cose del genere Ma sono Come li chiamate voi Dei dissing O cose del genere Metto quasi sempre Quel disclaimer Riferito al mio video Il diritto di satira Mio Del mio video Il diritto Alla libertà di parola Mio Del mio video Non hai capito nulla Di questa cosa E non c'è scritto Da nessuna parte Il contrario Contro la censura Chissà di chi sta parlando Sta parlando chiaramente di me Non facciamo finta di niente No Significa accusarmi Di aver commesso un reato Un reato che non ho commesso E questo è dimostrabile legalmente Qualsiasi avvocato glielo può dire Grazie Sir Cardio Ora Attenzione Accusare qualcuno Di un reato che non ha commesso Si chiama calunnia Esatto Ma io non ti ho accusato di nulla Quindi Io non sto chiaramente dicendo Che Kirio Il tizio che ha fatto un video Che ha sentito la morte bianca È un clown Ha fatto calunnia E infatti non l'ho fatto Chiaramente no Assolutamente Non lo sto dicendo Sta parlando di un'altra persona Sta parlando di un'altra persona E lui stesso avrà cura Di chiarire che Per tutto il video Ha parlato di un'altra persona Che ha commesso un reato Perché io non ho commesso nessun reato No 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 Io sul mio canale Posso bannare chi voglio Assolutamente no Per tutto il video Io parlavo proprio Del tuo canale Morte Bianca Ma quello di cui stai parlando te Non era riferito a te Ma al mio video Che bannare tutti i tizi Che iniziano con il cognome Della N E non sarebbe censura Perché il mio canale È una mia proprietà È come il mio profilo Facebook E tu nel tuo profilo Facebook Puoi bloccare chi vuoi Se non vuoi più avere un tizio Tra gli amici Nessuno ti può dire No sei obbligato ad averlo Perché se non ce l'hai Li limiti la Mille volte Ok L'ha tolto L'ha tolto veramente Ah aspetta aspetta Che cazzo dovevo dire adesso Ripeto Kiri Qui si è proprio fatto Una sceneggiatura Con i fiocchi eh ragazzi Io aveva l'opportunità Di smentirmi Apertamente E platealmente Poteva tranquillamente dire Guarda morte bianca Tu ti sbagli Un attimino scusate Avro perché Sta avendo difficoltà a trovarlo Un attimino scusate Che Avro sta avendo difficoltà a trovarlo Lui poteva tranquillamente Dirmi Aspetta un attimo Non è che è sparito veramente Aspetta un attimo Non è che è sparito veramente No No non è possibile Non è possibile No ma non lo può avere tolto Non ci credo L'ha tolto L'ha tolto veramente Cosa ho tolto? Ho i testimoni ragazzi Che cosa ho tolto? Ho i testimoni Ho i testimoni Cioè veramente ragazzi No ma non può essere vero Sto guardando male io Cosa? Non ha cancellato il commento Dopo che ha visto che non l'ho cancellato Quale commento? L'ha cancellato No vabbè No sei di Allora devo stare attento a non insultare No ragazzi Quale commento? Quale commento? Aspetta aspetta Il commento è ancora là Non l'ha cancellato Dopo che mi ha accusato di averlo cancellato Per fare Ragazzi meno male che ho i testimoni Meno male che i testimoni Ma quale ho cancellato morte? No questo è incredibile Quale? 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 Tra l'altro Lui non ha neanche citato Il commento Per cui è stato bannato È stato molto furbo Non è assolutamente vero Li ho fatti vedere tutti L'ha messo il commento Per cui è stato bannato Ha messo soltanto i commenti Che ho lasciato E qual è? Perché non vi ha messo il commento Per cui è stato bannato? Ovvero? Potete immaginare il genere Di contenuti Che c'erano in quel commento Vi lascio immaginare solo questo Quindi Come ce lo lascio immaginare? Ma non c'erano le prove Quale era? Scusa eh Aspetta lo sto capendo Intanto Ora torniamo Torniamo sul Sul video di morte bianca Per far vedere Che il mio commento È ancora lì Visto che io non ho cancellato nulla Lui li ha solamente Oscurati Agli altri utenti Ma Io li posso ancora vedere Perché lui li ha Oscurati per gli altri utenti Facciamolo rivedere un'altra volta Perché Non si sa mai Vediamo se Si vede Sì Allora È pubblicato Su quale rivista Shonen è pubblicato Shonen Jump Alpha Ma che c'entra scusa È ancora lì Sotto li faccio Come mai è sparito il mio messaggio Lui non risponde A come mai è sparito il mio messaggio Quindi fammi capire E Contano alcune riviste E non altre E l'ultimo mio messaggio Non ce ne sono altri Perché non ne ho scritti altri Lo sa benissimo Anche i diavoli E tutti quelli che hanno seguito La vicenda Che li faccio Ma stai dicendo seriamente? E sotto c'è il PS Con il mio commento cancellato Che è l'ultimo messaggio Che nomino nel video Infatti perché non ce ne sono altri Tutti qui Cosa cazzo Stai dicendo? Davvero Incredibile Pan Meritatissimo Perché è una persona Che io già conoscevo E che mi stava molto sgradita Per il suo modo Molto supponente Incredibile ragazzi E nel suo non voler Avere un dialogo Di limitarmi Di creare un dogma Indiscutibile Poteva dimostrarmi torto Poteva dire No Morte Bianca Mi hai preso Io sono una persona In realtà molto dialogante E invece E invece Morte Bianca Sei un clown E mi ha insultato In vari modi E tutte queste cose Ma non solo Io ho fatto anche Un video risposta Al suo canale Al suo commento E gli ho detto Gli ho detto Scusami Tu mi puoi insultare Nel video Nel titolo Mi puoi insultare Nei commenti E poi mi accusi Se ti banno Che ti sto negando La libertà di espressione E' una puttanata Una stronzata La tua libertà di espressione Non ti copre Gli insulti Non ti compre I canali altrui Madonna santa Insiste su sta cosa Che nessuno ha detto Stavo dicendo Poco dopo Lui fa Lui mi risponde Mi fa un commento risposta E io Perché io gli avevo Mi ero lamentato Che questo era un video Chiaramente clickbait Ce l'aveva fatto il click Morte Bianca è un clown E quindi tutti gli etri Bannati Tutto il disagio Arrivano là sotto E lui E quindi Ti fatti stai fatto Le belle views Alle mie spalle E lui mi ha risposto Dicendomi Sulle views hai ragione Se esistesse meritocrazia Ogni mio documentario Sulla storia del manga Avrebbe tutte le views Sommate di tutti Confermo Tutti i video Che tu abbia mai fatto Ma non mi lamento That's life Quindi lui per giunta Mi dice che i miei video Sono infimi di qualità Tanto che No ho detto solamente Che i miei sono infinitamente migliori Non che i tuoi sono infimi Questo non l'ho mai detto Ogni tuo suo documentario Ogni suo video di merda Perché questo sono Vale tutta la Ci riuscirai mai A fare un video come i miei La mia produzione di video Messe insieme Quindi i miei video sono merda Fondamentalmente Mai detto E quindi si chiarisce Che lui era invidioso di me Era geloso Ah questa è la prova Del fatto che io sono geloso Ma è incredibile Questo ragazzo Tutte le elucubrazioni Mentali che si fa Sono fantastiche Gli prudeva il culo Era geloso Perché un canale come me Fa grandi visualizzazioni Mentre lui Che si percepisce Il grande nerd Il tizio che sta Tutto il giorno sui fumetti Mattina e sera E fa i video analisi Non fa un cazzo La colpa è mia E la colpa è di youtube Perché youtube è stupida Non capisce un cazzo L'ha detto lui Proprio ha smentito Apertamente Platealmente Ha messo la sua gelosia Se si stesse la meritocrazia I miei video sarebbero Merde I suoi video sarebbero Di grande successo Lui avrebbe thriller Ma quanto si può essere Dovevo dirlo Che ero geloso Riempitevo la gente Davvero Dovevo ammettere Ero geloso Ripeto Sempre per la storia Che lui non mi conosceva tanto Però adesso dice Che tutta la mia carriera Di youtube Non vale sui video Ma come fai a dirlo Scusa Non hai visto Quasi nessun video Quindi da un lato Mi stai giudicando Sulla base di due video Su 600 Quanti ne ho fatto Tre video Gravissimo errore Stai generalizzando Secondo Tu non hai visto neanche uno Tu dicevi che non mi conoscevi Però adesso evidentemente Mi conosci Ti sto anche sui coglioni Che ho fatto tante views No Quindi lui ammette platealmente Che gli stavo sui coglioni No A seguito di questa cosa Lui Mi sono arrivati tutti i suoi iscritti A venirmi a farmi la flame war Non è vero lui Perché lui li ha convinti di questo Ha usato il termine totalitarismo Eh Ma totalitarismo non è Eh Già scus Lapsus Già giura meglio Chirio Attenzione Chirio Stiamo attentini Chirio Perché? Mi accusi di essere un dittatore Di averti tolto una libertà Che non hai ripeto Il tuo video Mai detto Mai detto Assolutamente Poi è venuto a fare anche la shitstorm Su Twitch Con tutti i suoi iscritti Che mi hanno insultato Ma non è vero assolutamente Anche perché Io sono andato su Twitch A chiedergli Siccome lui stava dicendo Durante la live Spero che sia ancora online La live Così andate a controllare Lui stava dicendo Perché io Cancello solamente Chi offende Chi insulta E robe del genere Io gli ho detto Ma allora come mai Hai cancellato I miei commenti Dove non c'era nessun insulto Bannato E poi è partito con Posso bannare Chi mi pare Certo che puoi bannare Ma non dire stronzate Io non ti ho offeso mai Quello nei suoi iscritti Sono venuti insieme a lui Identici C'è un chiaro onesso causale Con il suo Non è vero Mi è arrivato un tizio su Facebook Che mi ha spammato Un sacco di commenti In cui mi insultava Mi dava del suo iboi È colpa mia Tutti quanti 12 commenti così La pagina Facebook piena Non c'è nessun nesso causale Ovviamente Non è colpa di Chirio Mamma mia Ce la siamo sorbiti tutta Sta roba Ho i testimoni Signori Ho i testimoni Che confermano Che io il suo commento L'avevo lasciato E io ce ne ho qualcuno In più caro Lui se l'è tolto Ripeto Controllo un'ultima volta Per essere sicuro Ma Questo è lo schifo Capite Controllo un'ultima volta Adesso posso ben dire Di fare il video Chirio il mistificatore Io il suo video Il suo commento Non l'avevo rimosso C'ho i testimoni Che schifo Che bugianto Madonna Ma non ti vergogni Di mentire ai tuoi iscritti Ora voglio vedere Solamente una cosa Se i suoi iscritti Dopo aver visto questa live Che verrà anche ricaricata Su Youtube Se hanno ancora Il coraggio di parlare Tutto qui Non voglio Non voglio Che chiedano scusa Non voglio Che ammettono Di avere Torto marcio Cosa che È palese Dopo averlo dimostrato Voglio vedere solo Se hanno ancora Il coraggio di parlare Tutto qui Io il commento L'avevo lasciato Io il commento L'avevo lasciato Non è vero L'abbiamo dimostrato L'abbiamo visto Non c'era Non c'era nel tuo screen Quindi vuol dire Che tu l'hai cancellato Che l'hai nascosto Mentre c'è ancora Se io vado a vedere adesso Come abbiamo dimostrato prima Mamma mia Sbucerdation Come direbbe Mr. Flame Tu hai detto Che il commento Era sparito Io ho le prove Che non è così Grazie mille Gabri Quindi non so Hai mentito Io i testimoni Che dicono Che il tuo commento Era ancora lì Con il tizio Che ti difendeva Ed è rimasto lì Per una giornata e mezza Fino a poco fa A dire il vero Cazzata Cazzate su cazzata E io non te l'ho cancellato Sarà stata YouTube Sono sicuro che è stata YouTube Ma tu hai mentito Kirio Hai mentito Ai tuoi iscritti E mi hai dato del clown Se lo merita il ban Che dite Se lo merita Ma come queste persone Non si vergognano Ma non si vergognano Ah non so I testimoni Sono tutta roba Che sta inventando lui Probabilmente Schifo E' finito E la gente che fa così La posso Vedete che ci ho preso E come sul ban Ancora Qual disonestà E' finito Il disgusto Ma è finito Io ho finito Grazie Dio Ha finito Ragazzi Morte bianca Ha finito Quindi Io posso ringraziare Tutti voi Per essere stati qui Ovviamente Abbiamo visto che Erano tutte menzogne Quelle che ha detto Nel video Abbiamo Disintegrato Ogni sua prova Punto per punto Secondo per secondo Del suo video Quindi Io sono a posto così Non parlerò mai più Di questa cosa In nessun video Chiaramente Può capitare di parlarne Tra di noi Ma non ne parlerò più Pubblicamente In un video A meno che Qualcuno Non ci voglia Invitare Per fare appunto Una Una discussione Pacifica Tra di noi Io sono prontissimo Se qualcuno Vuole fare da Moderatore Io sono a posto Per il resto Pietra Totale Tombale Sulla questione Come abbiamo visto E A posto così Quindi Grazie Morte bianca Per averci regalato Tutto ciò Adesso Diciamo No Volevo fare Volevo fare Un raidino A Player Inside Ma mi sa Che hanno appena Finito Quindi lo facciamo A una fumettista Molto molto brava Me la salutate No Volevo farle A Player Inside Perché praticamente Dovevo Andare Cioè Ho chiesto A Midnight Raiden Se vogliono venire In live Da me Una volta Di Di queste E Mi deve rispondere Quindi se volete Comunque Andate a A chiedere Poi Ai Player Inside Di rispondermi Se vogliono Insomma Venire in live Intanto vi mando Da Veroni Cartoon Che è una Bravissima fumettista E Salutatemela Grazie a Sette Spirit E Cesar Magno Per il follow Grazie a tutti Per il follow Per aver visto La live Per i sub Per le donazioni E per i beats L'abbiamo finito La questione è chiusa A presto Un bacione a tutti